La parola immediatamente, leggo soltanto la prima parte di questa intervista anonima, rilasciata in forma anonima, alle Iene martedì sera di questo arbitro in attività di serie A, che ha aperto veramente il coperchio e fatto uscire quelle che erano le domande di alcuni, i sospetti di altri, lui ne ha parlato come domande che si pone anche lui stesso e non soltanto lui all'interno del sistema arbitrale. Andiamo a vedere nel dettaglio, perché naturalmente voglio ascoltare cosa ne pensate. Sono un arbitro di serie A, attualmente in attività, quindi non arbitra nei campi di periferia, con tutto rispetto ovviamente per chi lo fa. E voglio segnalare quelle che per me e per altri arbitri sono delle gravi anomalie del sistema arbitrale in Italia. Quest'anno ci sono stati tantissimi errori degli arbitri in campo e al VAR e al VAR, che sono davvero inspiegabili soprattutto per noi che siamo degli addetti ai lavori. Per esempio, è il caso del rigore negato al Bologna in Juventus-Bologna, o del fallo di mano di Pulisic prima del suo gol in Genua-Milan, o del recente fallo di bastoni su Duda in Inter-Verona, poco prima che l'azione proseguisse e si arrivasse al tanto contestato gol dell'Inter. In tutti questi casi, inspiegabilmente, non ha sbagliato solo l'arbitro in campo, ma anche il VAR, che nonostante immagini chiare, ha deciso di perseverare nell'errore commesso. Quindi questa soggettività che dice, di cui parla allegri e a cui ci siamo rassegnati un po' tutti, secondo noi non dovrebbe esserci e neanche secondo questo arbitro in attività di fronte a immagini precise che hai a disposizione il VAR. Francesco, poi ovviamente tutti voi. Allora, diciamo che questa intervista apre una serie di interrogativi, una serie di questioni molto molto gravi, a cominciare dal fatto che lui dica, secondo me e secondo altri arbitri, lui dice che ci sono diversi arbitri pronti a fare un esposto da questo punto di vista, significa che evidentemente c'è una fronda abbastanza importante all'interno dell'AEA, all'interno del settore arbitrale, che ritiene che ci sia qualcosa che non va. e lui fa degli esempi, e meno male che fa questi esempi, perché se no sembriamo sempre noi quelli che vedono male o pensano male. Ma quando noi analizziamo gli episodi e lui ha citato tre casi abbastanza evidenti, di tre squadre diverse tra l'altro, ma noi per primi ci siamo fatti 1800 domande sul com'è possibile che un arbitro non veda, com'è possibile che un VAR non richiame un arbitro a vedere quelle immagini che, ma non perché noi siamo più bravi degli altri, ma perché sono talmente evidenti, l'utilizzo delle immagini è fondamentale in questo senso e dà la possibilità di vedere in maniera chiara e evidente da questo punto di vista. Quindi evidentemente il sospetto che lui porta avanti e che poi secondo me vedremo anche nella seconda parte le sue dichiarazioni in maniera più importante, dimostra che dentro il mondo arbitrale ci sono parecchie cose da sistemare e che ci sono porzioni, credo anche importanti, di arbitri insoddisfatti che non capiscono loro per primi da dentro come sia possibile che dei loro colleghi commettano degli errori così macroscopici. Secondo me quello che non capiscono, oltre al perché siano stati commessi questi errori, il perché spesso e volentieri chi commette questi errori poi non è punito. Io credo che quello che ho letto dietro a questa intervista, incappucciate tutto, c'è un malumore all'interno non tanto di come vengono gestiti gli episodi da Moviola, ma proprio nel rapporto che c'è fra gli arbitri, Rocchi e le designazioni. Mi sembra che stia denunciando non tanto degli errori o un sistema per monico, ma mi sembra che la denuncia sia solo e esclusivamente per come vengono gestiti gli arbitri al loro interno. Cioè tu sbagli una roba così clamorosa e magari arbitri la partita dopo, io non sbaglio, non è l'episodio o l'errore, ma è proprio una questione di gioco di potere all'interno della classe arbitrale. Un altro errore clamoroso che viene fatto dalla gestione di questi arbitri è che quando c'è questi errori clamorosi ti mandano a arbitrare in Serie B come punizione, cosa vuol dire? Hai fatto un danno e vuol dire se hai dimostrato e devi essere in qualche modo castigato vai a arbitrare in Serie B. No, ti fermo un mese, tre settimane e vado a toccarti sotto l'aspetto economico. Infatti lo dice questo arbitro, l'unica cosa che ci toccherebbe sarebbe lo stop perché lì economicamente non percepiamo. Qualcuno viene stoppato e qualcun altro più blasonato, più politicamente forte, no. Al di là che sia brutto vedere un uomo che non si assume la responsabilità. Io penso che sia anche un po' il pensiero di tanti, ma viaggia secondo me questo discorso su una retta parallela. È brutto che non si assume la responsabilità di fare un'intervista mostrando il volto, però dice cose... Scusate, io voglio dire giornalisticamente, io giornalista ho le mie fonti e le tutele e non faccio nomi. E lo stesso modo uno che fa una roba televisiva è chiaro che deve proteggerla questo modo. No, no, ma non parlo delle iene, di colui che ha scelto, cioè se hai qualcosa da dire... Essendo ancora in attività, sta denunciando qualcosa per cui non ha delle prove. O porti delle prove, allora ti metti di faccia e denunci, non le iene, ma... Infatti è quello che gli dice Rocchi. Vabbè, Rocchi è andato giù pesantissimo, sembrava un discorso di un film degli anni... No, che poi ha detto, ma per fare un'intervista sono andati da lui, qualcuno l'avrà incrociato? Certo, ma sono stati contattati, sono stati dei contatti, delle cose, delle garanzie. Quindi non hai scontato che dai tempo 15-20 giorni... E viene fuori. No, ma lo sanno già... Guardi chi non... Io sono convinto che Rocchi lo sappia già chi è. Esatto, guardi chi non arbitra tra tre e quattro domeniche, capisci subito... Ma allora, guarda, infatti già il titolo del Corriere dello Sport, poi c'è il quotidiano, tipo la Gazzetta ha deciso di non occuparsi di questo argomento, no? Vabbè, ognuno poi... Perché quella è una bella risposta, eh? Io... Anche questa è una domanda che mi sono posta, come mai il Corriere dello Sport oggi titolava Caccia alla Talpa, quindi c'è già giustamente il ragionamento di Evaristo, no? Perché poi si cerca un po' di capire chi. Abbiamo una seconda parte ovviamente dell'intervista prima, però volevo sentire Chirico. Marcello, Marcello, dimmi un po'. Come sentire Chirico? Perché lui se ne intende. Certo. A Marcello! Vedi? 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 Poi dopo si arrabbia se facciamo queste battute a lui. No! Se noi queste battute le facciamo a lui e alla sua Inter. Scusa, la sua Inter. Allora dice, ma poi, ma perché parliamo, parliamo, non parliamo di calcio? Però lui gli piace. Siccome Giovanna mi ha detto, andiamo da Marcello che lui se ne intende. E io ho detto, sono d'accordo. E lui ti viene in mente, sta lui se ne intende, eccetera. E lui dice, ma adesso voi siete diventati più esperti. Ti piace così? L'allievo ha superato il maestro. No, ma volevo dire questo, guardate, adesso, parlando seriamente, a me francamente delle beghe interne all'AIA mi frega zero. Sono cose loro, rivalità personali, che francamente a me non mi toccano. A me tocca il risultato di quello che vedo su come lavorano questi dell'AIA male. E la cosa che questo arbitro evidenzia è che comunque anche loro si sono posti degli interrogativi sull'uso del VAR. Questa è la parte che mi interessa. Dei fatti loro, quello viene punito, quello non viene punito, che ci siano delle diatribe interne, che ci siano di favoritismi. Me ne frega zero, perché in tutti i posti di lavoro ci sono le guerrette, no? E quindi, per fare carriera, magari questo qui non gli hanno fatto arbitrare delle partite, allora adesso si vendica e dice sta cosa, magari in combutta anche con altre, adesso ci penso io. Ma non mi interessa, a me interessa il postulato iniziale. Tutti si sono resi conto, anche all'AIA, che il VAR viene usato male. E questa è la cosa che va curata. incomprensibilmente male. Delle loro robe, non mi interessa se le regolano loro, se le regolano loro, se le occupi i rocchi. Il problema è che anche gli arbitri sanno che il VAR viene usato in maniera iniqua. Ma infatti, la seconda parte, andiamo a leggerla. Allora, è vero che c'è anche il discorso che diceva Emanuele, cioè che non vengono puniti con lo stesso metro di giudizio, che c'è una lotta politica, che c'è una gerarchia, che c'è questo. Ma c'è anche un arbitro che dice, ok, davanti a immagini precise e chiare, non vedo perché è un arbitro, allora lì ti viene da pensare che ci sia la malafede. E quello poi è il brutto, no? Perché Francesco, nel momento in cui un collega, cioè non sono io a dire che è impossibile non vedere, ma è un arbitro stesso che dice, ma come fai a non vedere che c'è una spinta, che c'è una gomitata, che c'è un braccio, che c'è... Allora perché il VAR non vede? Punto interrogativo. Se lo pongono anche loro questo interrogativo infatti. E lui un po' risolve questo discorso, perché, vediamo nella seconda parte, dà una spiegazione. Allora, questa situazione è diventata insostenibile, sta condizionando le carriere di molti di noi. Da come viene valutato un arbitro dipende il fatto che questo continui ad arbitrare o meno. Se le valutazioni dipendono da dinamiche, diciamo politiche, allora in questo modo c'è il rischio che si falsino i campionati. Molti di noi hanno la forte sensazione che non sempre i voti, le valutazioni, le eventuali retrocessioni o dimissioni a fine anno dipendono esclusivamente dalle nostre prestazioni durante le partite. Ogni volta, qua, attenzione alla parte importante, che un arbitro viene chiamato al VAR può essere penalizzato nel voto che riceve dagli osservatori a fine partita. E se chi valuta gli arbitri sbaglia nella valutazione, siamo poi sicuri che fanno carriera solo e sempre più bravi, che vengono retrocessi più scarsi. E questa è la cosa esattamente quello che dicevo io. Questo arbitro qua non sta denunciando un sistema che condiziona il campionato. Sta denunciando che il loro sistema è marcio all'interno. Ma la terza riga, scusa. Lui parla di carriera, episodi arbitrieri che condizionano le valutazioni. Dimenticate per favore la grafica. Questa intervista tutta dall'inizio alla fine è finalizzata solo a denunciare... In questo modo il rischio è che si falsino i campionati. Lo dice Chiare Tondo. Se le valutazioni dipendono da dinamiche, diciamo, politiche, e noi sappiamo benissimo cosa significa questa parola, allora in questo modo c'è il rischio che si falsino i campionati. Più di questo. Lui non sta denunciando che gli episodi sono indirizzati. Sta dicendo che... Ma se ti sta dicendo che falsano i campionati... No Marcello, leggila tutta. Quella frase è in mezzo ad un contesto. E il contesto in cui lui parla è quello di designazioni arbitrarie e valutazioni sull'errore che condizionano carriera. Lui sta denunciando solo e esclusivamente che gli arbitri che vanno avanti sono quelli raccomandati da rompiti. Lui si fa... Marcello, lui fa riferimento alle elezioni che ci saranno ai vertici arbitrali. Non c'entra niente la politica di che stai pensando tu. Concettualmente, il concetto di politica significa, secondo me, che in vista delle prossime elezioni è come nella politica, cioè se fai parte della maggioranza o se fai parte dell'opposizione. Lui sta dicendo che se fai parte della cosiddetta maggioranza, cioè vai ad appoggiare la candidatura del favorito e di quello che poi vincerà le elezioni, vieni trattato o verrai trattato in una certa maniera. Ma lui non parla, lui non associa questa cosa qui. Sì, sì, nel corso dell'intervista fa riferimento alle elezioni e ai vertici arbitrali, Marcello. Non fermarti solo a questo screen. L'associa la falsità ai campionati falsati. Ma guardate bene. Ma certo, perché lui dice se continui con questo metro, per cui premi sempre certi arbitri che sono quelli che appoggiano la corrente politica vincente o che in questo momento ha la maggioranza, è chiaro che se tu vai a premiare sempre quelli inevitabilmente che facciano bene o che facciano male, soprattutto se fanno male, alla fine vai a falsare il campo politico di come fanno gli errori. Non possono fare quei fabbri, no? Secondo me, facciamo i nomi di questi che sono impuniti. Di Bello e Nasca. 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 Quelli dell'errore di Inter Verona. Rocchi in quel momento è stato preso per la giacchetta e è stato forzato a fare delle decisioni. Perché l'opinione pubblica italiana ha scelto che quello era il caso su cui non si poteva più soprassedere. Quindi a prescindere. Io non voglio solo quello. Mi fa piacere che questo arbitro abbia citato il Mani di Pulisic in Milano Genoa-Milano. Non mi ricordo se erano in casa. Perché su quell'episodio lì tutti abbiamo fatto finta di niente. Anche la settimana scorsa che eravamo qua. Io e Marcello eravamo gli unici che abbiamo detto che sono noi quello. Però per Rocchi no. È grave che Fabri abbia visto, adesso non ricordo chi fosse al VAR, se uno o l'altro. Quello al VAR ha visto la gomitata di bastoni e ha deciso di non chiamare l'arbitro. Nasca. Nasca. Sì, ma io ripeto che da questa intervista, anche se in realtà questa intervista non sta denunciando che c'è un sistema che condiziona il campionato. No, invece lo denuncia. Lo dice. Non è vero, dice c'è il rischio che se continuiamo a non punire quelli che continuano a fare errori, ma non è che indirizza il campionato da una parte o dall'altra, è condizionato perché arbitrano quelli scarsi, quelli che fanno errori vanno avanti lo stesso. Questo ti sta dicendo. Se si continua vuol dire che fino ad oggi quello che è stato fatto è qualcosa che ha danneggiato già il campionato. Se si continua... Sì, ma danneggiato il campionato... Beh, basta leggere. Non indirizzato. Sta condizionando il campionato per tutti. Arbitrano quelli che non dovrebbero arbitrare. Questo ti sta dicendo quest'arbitro. Quello che è sicuro di cui stiamo parlando, e dobbiamo sicuramente chiarirlo, che non è che qui ci sia un'accusa di favoritismo nei confronti di qualcuno. No, no, no. Qui c'è spalmato a ruota libera errori sparsi nel campionato. Che però, giustamente lui dice, continuando così vuol dire che fino ad oggi hanno condizionato diciamo una classifica che può essere avanti o dietro. Ora uno, ora l'altro, ora quell'altro. Però ragazzi, ragazzi, però non è che è stato così... la parcellizzazione dell'errore è stata così tale. Cioè, ma perché non riusciamo mai a dire... c'è una squadra che ha avuto più aiuti degli altri. Non si può dire. Allora arriviamo al dunque. Dai, questa squadra è... L'Inter. Ci può dire che l'Inter è stata più avvantaggiata degli altri? Si può dire, non lo so. A me sembra che, dato che stai portando quest'arbitro a paladino di quello che stai dicendo, quest'arbitro cita altri sei episodi non scritti da Rocchi sulla Juve. Parliamone allora. Ma lui è stato bravo, secondo me, attenzione, non è casuale, chiedo scusa, non è casuale che lui abbia citato un esempio solo dell'Inter, un esempio solo del Milano, uno solo della Juve. Non è solo uno. No, dell'Inter non le ha detto tutti e due, quelli di seguito alla spinta, che era una cosa anche quella evidente. Ha detto quella, quindi lui ha detto, non voglio far capire che c'è un orientamento preciso. In questo lui è stato misurato e ha capito che voleva fare un'accusa generale. Non è stato misurato. Però... No, 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 Gigi, Gigi, non è stato misurato perché poi ha fatto tutto un elenco di episodi riguardanti la Juventus, che francamente io sono rimasto allibito. Ha detto, ma come? Ogni settimana, quando siamo in televisione a Network, parliamo solo di episodi riguardanti l'Inter, adesso lui mi tira fuori tutta una sfilza di episodi della Juve. Perché ti ha raccontato quelli che sono passati sotto traccia, Marcello, perché tutti gli altri li abbiamo visti tutti. Perché sono certificati, Rocchi li ha messi nella sua tabella, quelli di cui parla lui sono quelli che non sono certificati da Rocchi. Mani di pulito, le gomitate di gatti, quelli non ci sono per Rocchi, non sono esistiti, non sono errori. Ma non è vero che non sono certificati. Ad esempio il mani di Bani, che non è finito nell'elenco della blacklist, alla fine Rocchi, ricordo all'open bar, disse questo per me è più ridore che no. Però nella famosa conferenza, negli otto episodi citati, non vengono citati tutti. Quello non c'è. L'arbitro in questione dice e fa riferimento per esempio a Juventus Bologna e a Inter-Verona. Non fa riferimento agli altri. Che poi ci siano anche degli altri episodi, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Juve-Verona ha tirato fuori le mani di UEA, pensa a te. Juve-Verona ha tirato fuori le mani di UEA. Inter-Verona, volevo dire. Cioè Juve-Bologna e Inter-Verona sono i due episodi, tra le big che vengono citati, ma per esempio lui, l'unico nome che fa è quello di Valeri, che è il VAR di Salernitana-Bologna. Un fallaccio di un giocatore della Salernitana. E lui si domanda com'è possibile che Valeri non intervenga pur essendo al VAR. È l'unico nome che viene citato, mi risulta, in quell'intervista. Francesco... Quindi non è Valeri? O è lui che si butta dentro? No, potrebbe essere un stratagemma. Potrebbe essere un stratagemma. Mi autoaccuso. Mi autoaccuso. Si autocita per fare... Potrebbe essere una buona tecnica. Noi nella nostra piccola, così, nel nostro piccolo, nella nostra ignoranza, nel senso che ignoravamo quanto anche loro si facessero certe domande, alcuni di loro avevamo già una graduatoria. C'è l'arbitro di Serie A, no? I Valeri, gli Ostadi. E poi ci sono gli arbitri che sono, insomma... Come ci sono i varisti di Serie A? Di esempio, i Rati è uno di quelli considerati... È dipende anche in base a quale corre... Un fenomeno. Appunto, appunto. Sono d'accordo, Marcello. Sono d'accordo con te. Allora, però, Evaristo, io capisco la tua posizione di... Parliamo di campo. Ma se il campo viene condizionato da... No, scusa, che posizione? No, di parlare del campo. Cioè, parliamo di quello che succede in campo a livello di gioco, no? No, guardo, poi non è che aspetto te che mi so, anch'io quando c'è l'errore e no. Io sto dicendo che bisogna mettere un po' di ordine, perché sennò dai da pensare a tante cose. Essendo anche uno che sta nel calcio, mi auguro che finisca in fretta e si cerchi di eliminare gli errori. Poi, essendo un uomo di campo, lo vedo anch'io quando c'è due o tre situazioni, ognuno la pensa a modo suo. Ma se ci sono delle regole bisogna cercare di farle mantenere, non uno prende un'interpretazione, l'altro quell'altra. Perché altrimenti rischiamo veramente di non parlare più di calcio e parlare di tutto la cosa che... E questo, secondo me, è un dato di fatto, ma non ti dà niente. E noi speravamo di non parlarne più di questo. O più dà niente a chi vi è rimasta solo la parola che parla di queste cose. Allora, facciamo una cosa. Come mai parliamo ancora di Turone, parliamo di Ronaldo e Giuliano, parliamo di Montari, come mai parliamo ancora di quelli? Di Lubello, a Verona. Perché lì la televisione ce l'ha certificato. Ah, ecco, ecco. Ah, invece adesso non certifica. Certifica, certifica. Adesso che abbiamo 50 telecamere. Certifica, Marcello, certifica tutto, non solo quello che vuole Rocchi. E allora parliamone. È quello che stiamo facendo. È quello che stiamo facendo. Non teniamo solo quegli otto episodi, raccontiamoli tutti. No, no, il problema è che dà fastidio. Quest'anno a alcuni dà fastidio. A me non dà assolutamente fastidio. A me, dall'inizio dell'anno, anzi, da quando c'è il VAR, io sono il primo che dice che il fischietto dovrebbe darlo direttamente al VAR. E l'arbitro di campo sia di sostegno. Perché l'unica cosa che deve valutare l'arbitro di campo è l'intensità. Tutto il resto lo valuta chi sta davanti a un monitor. Quando che siano capaci noi, sono capaci anche loro. Facciamo così, aspetta Marcello. Il problema di tutto questo è come ne usciamo. Ecco, bravissimo. Perché se noi ne usciamo mantenendo sempre le stesse cose, no, quindi a Rocchi saldamente sulla sua poltrona, ma non ci sono del resto prove oggettive per farlo saltare dalla poltrona, poi alla fine facciamo un gran parlare e non cambia nulla. Ma io credo che... Perdonami se ti interrompo, Giovanni, perdonami. Però l'accusa più pesante è quella che dietro ci sia una politica che condiziona tutto quanto. Quindi premio, mica premi. Quindi portare avanti certe fasce di giocatori, di arbitri invece che altre. Perché c'è un gruppo che comanda, no? Capisci bene. Ebbene, non è un gruppo dirigente. Secondo me è l'accusa più pesante. Ma assolutamente, è un'accusa pesantissima e c'è un'altra accusa che arriva da questa intervista che riguarda quello che noi ingenuamente, vedi come siamo ingenuamente, ma magari avevamo ragione ad esserlo, cioè attenzione non voglio mettere tutto nel calderone, pensavamo fosse l'unica cosa certa, ovvero il fuorigioco. C'è un episodio tirato in ballo da questo arbitro che va a minare la certezza anche dell'esattezza del fuorigioco. E poi abbiamo la dichiarazione clamorosamente pesante di Rocchi, fresca di giornata. Rocchi ha tirato fuori gli artigli. Questo arbitro incappucciato ha gettato ombre su un qualcosa che era già stato tirato in ballo da un giornalista dopo Juventus-Roma, giusto Francesco? Ed è il famoso fuorigioco fischiato a Vlaovic. Sì, perché ci siamo sempre detti, una delle poche certezze con il VAR riguardo al fuorigioco, invece poi si scopre che non sempre è così, perché poi ci siamo sempre detti, dipende sempre da quando tracci la famosa linea, no? Un frame in più o un frame in meno, no? Il frame è quella, è una dicitura tecnica televisiva ed è un, una volta era un ventiquattresimo di secondo, quindi proprio una frazione di secondo. È chiaro che se tu schiacci il tasto stop in un punto o in un altro, ti può cambiare la posizione del giocatore o meno. Nel caso di Juventus-Roma, invece, viene segnalato anche dall'arbitro intervistato dalle Iene un errore proprio tecnico, un errore concettuale, perché possiamo andare a vedere anche questa immagine che si trova anche su Twitter, si trova anche abbastanza facilmente. Noi abbiamo preparato questa fotografia che vi mostra appunto la famosa giocata di Vlaovic che porta al gol di Rabiot. Nell'immagine di sinistra, voi vedete il tocco di Vlaovic è il momento esatto in cui il varista traccia la linea del fuorigioco e in questo momento, nella fotografia di sinistra, ripeto, Rabiot non è in fuorigioco, Rabiot segna e il gol dell'Iventus viene convalidato. Questo è quello che è successo. In realtà anche l'arbitro intervistato dalle Iene fa notare come nel regolamento del gioco del calcio la linea vada tracciata quando la palla si stacca dal piede. Piede di Chiroda. Siccome quello di Vlaovic è un tacco, un colpo di tacco e la palla tra l'immagine di sinistra e l'immagine di destra non si stacca mai dal pallone, la famosa riga sarebbe stata da tracciare nell'immagine di destra e non in quella di sinistra. Passa una frazione di secondo ma evidentemente sufficiente per mandare in fuorigioco Rabiot e per far sì che il gol della Juventus potesse essere annullato. Questo dice il regolamento. Secondo me è anche più di un frame. È più di un frame perché la giornata è un po' più lunga in questo caso. Però tutti fuorigioco possono essere messi in discussione con questa interpretazione perché è discrezionale la scelta del frame in cui fermi l'immagine per tracciare la linea. Però in questo caso c'è il passaggio prolungato. In questo caso è una particolarità, è un po' un'eccezione perché comunque di fatto la giocata di Vlaovic è talmente particolare per cui trattiene tra virgolette il pallone a contatto col piede più di un passaggio normale e di conseguenza sarebbe sufficiente per far andare in fuorigioco Rabiot se solo la linea fosse stata tracciata come il regolamento dice quando la palla si stacca dal piede e non quando lo tocca la prima volta. Visto che adesso siamo nell'era del fuorigioco di un naso, di un centimetro, due centimetri anche il frame, qui c'è più di un frame, ma anche un paio di frame potrebbero veramente determinare in base a quando tu stoppi. Peccato che il giornalista anti-Juventino che fa questo tweet su X ed è dichiaratamente anti-Juventino perché lo conosciamo tutti, non abbia fatto lo stesso lavoro così minuzioso sul fuorigioco di Ken in Juve Verona che tra l'altro Ken non andava nemmeno verso la porta, andava a centrocampo e lo presero per un tacchetto sempre questioni di frame perché vi ricordo anche al giornalista che twitta tanto ossessivamente sulla Juventus che anche in quell'occasione c'è un open bar ad Azzon in cui gli stessi varisti, la bar o il bar se lo ricordo dice all'altro quale prendo di questo fotogramma perché se prendo il primo è buono, se prendo il secondo è fuori, prendi il secondo cioè quindi raccontiamole sempre tutte le storie, non che scegliamo quella che ci pare e piace tanto più che poi io sono dell'idea, io sono dell'idea, io sono dell'idea che per me non è fuorigioco quello di Juve Verona di Ken, non è fuorigioco questo perché secondo me non prende nessun vantaggio rabbio su i giocatori avversari sulla necessità di introdurre la luce con me sfonde una porta aperta Marcello, io l'ho sempre detta questa cosa mi sembra chiaro che nel dubbio fossero giusti tutti i due episodi in favore della Juventus facciamo ragionamenti di lana caprina su queste cose qui, soltanto che piacciono i tifosi che sono anti-juventini allora devono andare a cercare per forza questi episodi ma potremmo prenderne tantissimi però Marcello ipotizziamo che hanno sbagliato in tutte e due le cose quindi Ken era gol e quello di Vlauic era da annullare, sul totale la Juve c'è due punti in più col Verona hai vinto e col Verona hai vinto e non dovevi vincere scusami ma tu con che certezza, io voglio sapere con quale certezza Tramacere dice era da annullare il gol di Rabiot, su quale fondamento dimmelo se dobbiamo giudicare la regola di quello che ci dice quell'arbitro e il regolamento che dice che in quel caso la linea del VAR bisognava tracciarla alla fine, quindi sul secondo frame era il fuorigioco Rabiot, quindi quel gol era da annullare quello di Ken, sono d'accordo con te, per me non era da annullare quindi tu sai qual era il frame esatto da andare a prendere, tu lo sai? ma è quando si stacca la palla dal piede? quello che abbiamo fatto è si stacca la palla, quando è che si stacca? Può essere staccarsi di un millimetro come di mezzo millimetro? voi che ne sapete? allora Marcello va bene su tutto, allora annulliamo la regola del fuorigioco non rivediamo in più nessuno perché non so mai quando si stacca la palla dal piede per davvero io capisco che siccome quei due punti in più sono fondamentali per la Juventus che adesso è in testa della classifica ma sono fondamentali per tutti Marcello, questi sono i casi che stiamo valutando bisogna fare polemica infatti io quello che contesto al signore incappucciato è che lui apre l'ennesima polemica cioè su una questione che si era già capita che quella è una questione di frame non frame cioè sai benissimo che io non sono al VAR, non posso sapere qual è il frame giusto che deve essere preso, non lo sanno nemmeno i VARisti perché se addirittura in un open VAR è soggettivo anche quello che hanno scoperto no ma se in un open VAR Giovanna addirittura la VAR dice all'altro scusami quale prendo? certo, certo questo qua che è dentro, questo che è fuori, prendi l'altro e allora anche qui hanno ragionato nella stessa maniera, scusami guarda Marcello, dico questo poi Roli Beccalossi quello che arriva a me, non è l'esempio, Juve Roma poteva essere un altro esempio è perché è stato tirato in ballo da questo uomo incappucciato ma io è per far crollare una certezza che i poveri tifosi credevano che quella benedetta linea che ci mostravano le telecalle all'immagine tv fosse la Bibbia fosse la Bibbia sacrosanta l'unico baluardo del VAR abbiamo scoperto e allora aboliamolo in maniera umana possono sbagliare il frame e scegliere uno in base al quale poi giocano fuori gioco e basta dobbiamo abolire il VAR rimettiamo il guardagnino che se vede la luce alza la bandierina rimettiamo il guardagnino scusa, però d'accordo io adesso non l'ho seguito però ho sentito un'altra dichiarazione e ho detto quale immagine ammantiamo? la prima o la seconda? ma uno ha detto i lavori che è lì? come fa a dire? secondo me stai cauto non puoi dire... ma poi è un arbitro sei un arbitro non l'avevo mai sentita quindi sto seguendo l'abbiamo sentita purtroppo l'abbiamo sentita è terribile eh lo so infatti sto seguendo te Marcello che segui tutto questo qua mi sembra un'altra cosa grave è clamorosa quella roba lì è clamorosa che gli chiede quale uso è lì a controllare la prima o la seconda? mi sembra che più arbitri metti sia il VAR che è in campo e più aumenti la gerarchizzazione la tortuosità della decisione l'errore no? diciamo in questo caso in questo caso però diciamo un'altra cosa ma uno può dire ho fatto una pirlata ma non devi chiedere ma non cioè in questo momento cazzo anche per tante altre cose bisogna cercare di dare meno meno argomenti per poter creare problemi quindi anche quando si sbaglia bisogna avere la frase di sì forse ho sbagliato punto e si gira a passia così non ne usciamo più perché a me ti ha posto una cosa ti spunta un'altra però correggetemi se sbaglio quella perché mi sembra fosse una donna che dice quale frame prendo questo o quello non era un arbitro era un tecnico che chiede al VAR o alla VAR quale frame prendere quindi in questo caso la domanda potrebbe anche aver senso perché io tecnico devo sapere quale dei due frame per te arbitro è quello giusto dove hai partito la falla e tutti non è che prendono quella che va a fare che ne so la poetessa al VAR in teoria dovrebbe sapere quale frame sceglie non è un arbitro ho capito quindi ci sta posso capirla io posso capirla la domanda ho capito il ragionamento cioè lei è una cioè non è il VAR che dice all'altro VAR quale frame prendo perché non lo so non è il mestiere arbitrare è il mestiere tirare la linea hanno spiegato a Lissone che i tecnici perché sono dei tecnici no? sono dei tecnici altamente specializzati in produzioni sportive scusa allora scusa perché se ho perduto il filo anch'io solo un attimo allora siccome la decisione la prendo io il tecnico non deve essere messo in condizione di dire cosa ti mando questo o quell'altro no ti chiede tu vai lui ti fa vedere lui dice dove te la traccio la liga sta chiedendo all'arbitro questo o con quello il tecnico lo domanda poi è il barista che dice tracciamelo con questo o con quello cioè è lui che sceglie poi quale frame utilizzare io capisco il tecnico giustamente dice io ho queste immagini cosa mando allora prima di uscire vai a verificare bene certo certo quello dice Gianni no perché il fuorigioco sembrava un dogma abbiamo capito ma giustamente come avete spiegato voi che comunque c'è anche lì un margine di discrezionalità posso dire ecco nel frame sul fuorigioco anche io sono d'accordo che non si può più andare avanti col discorso che basta due centimetri anche perché nella trasfigurazione dal reale al plastico al tecnico diciamo che diventa una sagomina capisci bene che tre centimetri tu non puoi identificarmeli ma Gianni è inficciare un'azione è contrario alla regola stessa del fuorigioco certo cioè il fuorigioco la razza per cui 60 anni fa nasce il fuorigioco era perché c'erano le squadre che giocavano su tutto il campo quindi c'erano delle squadre che lasciavano un attaccante attaccante a palo io ho fatto il tempo che bello siccome si è capito che questo era dovevo rientrare becca stai su c'era a palo mi ha posato esatto siccome è stata questa cosa qui era chiaramente contro lo spettacolo è stato introdotto il fuorigioco per evitare che come dice la parola stessa un giocatore fosse fuori dal gioco ok quindi è chiaro che perché diciamo deve esserci la luce cioè deve esserci almeno uno spiraglio tra attaccante e difesore e io non accetto neanche la controcontestazione sì però ci sarà sempre anche al solo un millimetro sì c'è un millimetro di luce ma c'è un millimetro di luce più un intero corpo che in corsa va avanti quello vuol dire avvantaggiarsi quello vuol dire prendersi un vantaggio in debito nei confronti del difensore se partiamo alla pari e io sono avanti di una suola o come è successo con Ken non può essere un vantaggio concreto cioè è contrario allo spirito della regola stessa ma sai cos'è che gli arbitri si paraculano con il VAR cioè loro sapendo che esistono poi tutte le polemiche e ce ne sono sempre comunque ce ne erano state e ce ne saranno pur di evitare di prendersi addosso gli strali e della stampa e dei tifosi allora loro anche se c'è un millimetro un piccolo segmento loro ti danno il fuorigioco così almeno nessuno protesta più è ovvio perché in questo momento questa è la regola io parlo nel caso del fuorigioco al di là della necessità di cancellare i cosiddetti protocolli perché i protocolli danno vita a un X numero di interpretazioni rispetto alle quali non saremo mai d'accordo perché se ogni volta metti una eccezione una sottocategoria all'eccezione ma guarda la spinta di Lautaro non è che voglio prendere sempre ad esempio l'Inter però Rocchi in quella conferenza stampa ha detto chiaramente che si augura quindi lui tutte le sere prima del 2020 dice speriamo che in area di rigore non succeda una roba del genere e qualora succedesse non è mai rigore e per tutta Italia quella era una spinta era un fallo non era una cinturata quindi crei cioè tu stai avallando una pericolosa soggettività tu Rocchi poi oh per carità libero di farlo adesso glielo fanfare devo dire anche che la reazione adesso forse la vedremo più avanti però io la trovo anche scomposta quindi vuol dire che è stato toccato nel vivo perché se uno non ti ha toccato dal vivo e in qualche modo ti senti esente da queste robe e vi dice questa è l'accusa di uno non hai quella reazione così vemente così perché appunto quest'arbitro qua sta denunciando il sistema politico che c'è dietro e c'è l'ha toccato nel vivo e infatti ascolteremo lui è stato promosso a capo di tutti gli arbitri di A e B politicamente è il secondo dell'elenco oggi ha fatto proprio un discorso ai suoi e ha detto testualmente quindi vi leggo il virgolettato non molliamo un centimetro io non mollo un centimetro uno che sia uno da qui al 30 giugno non permetto a nessuno di infangare il lavoro nostro ma soprattutto non permetto a nessuno di infangare il vostro lavoro perché molti erano gli scontenti carbone mazzoleni orsato su tutti scontenti di quelle dichiarazioni chi dissente senza mostrare la faccia non può essere un uomo e dunque non può essere un arbitro siamo una squadra non siamo un gruppo e poi ha fatto una battuta la Givova che è lo sponsor dell'AIA non darà più le felpe col cappuccio ma poi è andato avanti vi prego di guardare chi è accanto a voi come un fratello anche se non lo è per me siete tutti innocenti e se esiste il personaggio col cappuccio verrà da me e dirà che ha fatto una cavolata possiamo andare avanti ma l'ha detto in un modo più forte possiamo andare avanti in un modo solo smettiamo gli attributi tutti insieme andate in campo senza problemi dritti e fate squadra la nostra fiducia in voi è totale per fare una grande partita dovete essere in sei non siete nessuno per giudicare insomma un bel capopopolo sembrava Al Pacino infatti alcuni l'hanno paragonato insomma è vero mi sembrava io proprio sono un amante di quel genere non è un uomo infatti come diceva Al Pacino insomma è un noto film bisogna metterci sempre la faccia se vuoi essere definito un uomo cosa ne pensate? Cos'era Scarface Scarface indimenticabile unico mitico Scarface ma guardate sempre il film uscite qualche volta ma guarda che è un film vecchio un film vecchio dovresti averlo visto pure te quando eri giovane ricordalo Marcella che tu in settimana puoi andare anche al cinema adesso quindi voglio dire non c'è problema puoi andare anche al cineforum al cineforum al cinema de sé come si chiamava al de sé esatto al de sé sei libero sei libero ma insomma con quei due punti più dell'asterisco come mai libero ah non è impegnato ah no ho capito non è impegnato però loro erano arrivati davanti erano arrivati in Champions è perché qualcuno dice che il Milan indebitamente si sta freggiando di una posizione di solidi che spetterebbero sono arrivati i quarti loro il Milan che ce fa insomma non è colpa sua ma detto questo Rocchi perché diceva Giugno Francesco Tramacere perché ci sono le elezioni insomma quindi lui vorrà ovviamente o comunque fino a fine stagione a fine stagione a fine anno poi c'è un riciclo di arbitri ma rimarrà secondo voi dopo quello che è successo dopo quella che è stata la conferenza stampa che qualcuno ha trovato brutta anche quando ha detto ma non abbiamo mica sbagliato noi il rigore quella è stata una frase brutta e lui ci è tornato sul discorso e ha detto ma non mi sembra di aver detto niente quella secondo me a lui sembra ma invece quella secondo me un disegno arbitrale secondo me quella cosa lì non la deve dire neanche per sogno quale scusa quando lui dice quando lui dice sì però poi è vero noi possiamo aver sbagliato però poi il rigore del Verona mica l'abbiamo sbagliato noi e quella è una città e quella è una battuta infelice sinceramente questa se la poteva risparmiare perché insomma esce prima critica alle società e ai dirigenti che esagerano e poi gli risponde fra virgolette a tono quindi abbassandosi a quel livello che lui non vuole sentire nei confronti perché difende la categoria e ho capito perché lui la sua casta dice beh in fin dei conti che poi ti fa capire che quello uno per le interpretazioni che può dare era un rigore compensativo quello lì era un rigore compensativo perché poi per me non c'era lo sono dato pure per me sai sai che pure per me non c'era pure per me siamo d'accordo ma lui ha allungato quella partita arrivata al centesimo se lui annullava il gol a Frattesi la partita finiva prima lui ha allungato hanno allungato hanno perso tempo dicendo che si era perso tempo quando hanno fatto l'esultanza eccetera eccetera e siamo arrivati al centesimo alla fine c'è stato un contatto e lui immediatamente ha dato rigore perché probabilmente qualcuno gli ha detto ma scusami perché mi rifaccio ai dialoghi che ho sentito anch'io di Open Bar quando dice fischia 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 però quello che non ho capito di quell'episodio è stato e fischia 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 mamma mia dai muoviti fischia e poi basta va a vedere va a vedere se è fuori gioco non fuori gioco tutto regolare non glielo puoi dire ma non glielo puoi dire guarda che c'era un fallo prima non glielo puoi dire e no perché è condizionato da quello che lui sente dire ai giocatori del Verona da parte dell'arbitro quando il giocatore del Verona dice mi ha guardato e poi si è ricaduto questa è furbizia quando lui dice questa cosa qua il varista dice sai che c'è me ne sto mi faccio un cestino sbagliando perché lì c'è la sudditanza psicologica sì ma questo è furbizia questo è furbizia però il colpo l'ha preso tu ti sei reso conto che era fallo quindi dire guarda furbizia nell'ascoltare nell'ascoltare l'arbitro lui si fa già un'idea di quello che poi sarebbe stato il giudizio dell'arbitro cioè tu vai a richiamarlo quando sai che lui l'ha vista già in quel modo lì e quindi per lui allora tu dici allora Marcello pensa però qui rientriamo al postulato iniziale dell'uomo mascherato che dice alcune volte si applica altre volte il VAR non si applica tu pensa a quel povero VAR avrebbe richiamato un arbitro più quotato di lui che sarebbe andato al VAR e avrebbe confermato la sua di decisione quella perché a questo beh pensando che è una simulazione se lui la considera tendenzialmente sarebbe stato penalizzato non so quindi ha detto sapete che c'è che io tengo famiglia e mi faccio gli affari miei ecco sperando che nessuno l'abbia visto e il calcio subito un danno da questo certo ma non solo adesso possiamo scegliere l'Inter possiamo scegliere la Juve possiamo scegliere il Milan il nostro almeno per quanto ci riguarda è far vedere quanto la categoria arbitrale stia sbagliando troppo allora ti chiedo Gianni Rocchi è ancora proponibile come capo come designatore come guida? ma secondo me se c'è qualcuno che vuole fare un passo avanti forse è il caso che si presenti perché obiettivamente quello che sta succedendo fra arbitri e VAR anche lo scorso anno non solo quest'anno ma perché se tolgono Rocchi poi secondo te e secondo voi anche in studio cioè cambia la situazione? ma cambia forse il peso politico magari ne metteranno un altro se l'accusa è quella come si dice che quando una squadra va male si cambia l'allenatore Rocchi è chiamiamolo così l'allenatore degli arbitri mettiamola così e siccome questa annata fino a questo momento è stata clamorosamente negativa è abbastanza fisiologico pensare come clamorosamente? sono solo otto gli erori certificati? eh certo sì solo otto va bene ce ne saranno una cinquantina gli erori esagero quelli certificati da loro sono otto sì certificati vabbè loro certificano quello che vogliono però ti ripeto lui va a Open Bar e dice il Bani di Bani per me è rigore cioè capisci che doveva certificarlo però lui ha fatto tutti i suoi calcoli perché sai anche lì quella blacklist l'hanno compilata tenendo anche presente che ebbè facciamoli finire eventualmente pari Juve e Inter che se no se la Juve passa davanti mannaggia poi mi dicono che sono di parte capisci ragionano anche così gli arbitri secondo me voglio dire una cosa non è quello il concetto che hanno avuto dopo ritorno da te non entro nel merito diciamo dei motivi che hanno spinto questo signore a fare queste dichiarazioni però entro nel merito invece del fatto che le accuse che sono state fatte io le condivido tutte allora sono cose molto gravi e io credo che forse il responsabile di tutta questa cosa inconsciamente con tutta la volontà con tutto non voler fare un passo indietro non mollare un centimetro però abbia tutte le colpe di quello di cui viene accusato per cui secondo me se ci sarà un cambio secondo me sarà favorevole anche per spazzare via tutte queste cose Gianni secondo me ma Gianni secondo me il vero cambio deve essere fatto sul protocollo il protocollo va abolito va abolito decidiamo qualcosa però decidiamo qualcosa sul protocollo perché quello che sta il protocollo è gravissimo perché di fatto c'è chi si attiene chi ci aggiunge delle regole ma no Marcello è il confusione il protocollo è il male dei mali ma se lo stesso capo degli arbitri ti dà le interpretazioni settimana in settimana che sono diverse ma appunto ma se il protocollo viene gestito cioè se rimangono le cose così sicuramente il protocollo così rimane perché piace a Rocchi cioè noi abbiamo avuto la percezione ma poi il protocollo di quante pagine consta piaccia a Rocchi quindi è inutile Giovanni il protocollo di quante pagine consta è una Bibbia si aggiorna Marcello si aggiorna di settimana in settimana comunque guarda adesso non ricordo se è stato Marcello prima a dirlo o forse Francesco però quella cosa che dovrebbero essere probabilmente ribaltati i pesi e l'autorevolezza cioè dovrebbe essere più importante il signore del VAR rispetto all'uomo che è un paradosso perché dici come lì e vede di sua vede la spinta vede l'intensità vede tutto quello che vede e invece quell'altro però invece è lì ma però in qualche modo è quello che aiuta quello dell'arbit del campo secondo me è veramente e come l'apprende è quello che dovrebbe dire ragazzi qui dobbiamo metterci nei passi lo metto anche prima questa gente come noi siamo nati noi anziani tra virgolette siamo nati analogici e non digitali quindi viviamo tutta la digitalizzazione della nostra società in una realtà diversa questi sono nati senza VAR e questo tutti senza VAR noi siamo nati avanti anni la tecnologia no poi è subentrata addirittura si è creata una sezione di soli arbitri io ho avuto la fortuna di essere in un posto in mondiale in Russia addirittura per valutare meglio gli episodi si poteva pensare a un ex ma non un ex che andava un ex giocatore però in Russia non hanno sbagliato niente né VAR né arbitri erano lì tutti l'esempio proprio del VAR aspetta però il concetto era un'altra cosa era che non doveva entrare un ex giocatore per dire devi far questo era solo 30 secondi un minuto di uno che ha giocato al calcio per dare un'informazione per completare la visione di un episodio e punto e invece la scelta è stata che il giocatore deve fare il giocatore e gli arbitri deve fare gli arbitri io invece credo che nel calcio di oggi devi ragionare come team non è più che uno prende e prende l'iniziativa è una categoria perché se noi abbiamo analizzato che ha in mano un potere straordinario ecco allora se io ho tirato qualche calcio al pallone se mi mette uno la mano così credimi chi ha giocato sa come può essere se è forte o se non è forte la spinta e c'era lì Bovan che allora era il numero due della spinta Bovan non era l'ultimo pilla quindi ragionavi su queste cose e invece la sensazione è che ognuno ha il suo il suo orticello non è tanto un orticello i suoi ettari di terreno quando invece secondo me si può migliorare in tutto perché la tecnologia io tante cose che mi occupo di caccio al primo momento se non guardavo il VAR in partita diretta non le avevo viste ma allora o se da tutte cioè voi ha il problema serve come certo allora bisogna eliminare i dubbi grossi ma per questo io dico di far arbitrare il VAR e non l'arbitro di campo perché l'arbitro di campo l'arbitro di campo è uno che guarda quello che i suoi due occhi vedono dall'altra parte vedi tutto facciamo come il football americano allora facciamo come il football americano l'arbitro di campo nel momento in cui il VAR ha bisogno chiede l'intervento comunque la realtà è che purtroppo non collaborano cioè non c'è lavoro di squadra fra varie arbitri perché basterebbe la volontà di collaborare e di non mettere davanti il protagonismo o tutto il resto che abbiamo sentito dire qui è anche capire quando deve intervenire il VAR e quando no perché ci sono momenti per me deve intervenire sempre Marcello sempre faccio un esempio le spinte una volta si diceva è l'arbitro in campo che può valutare l'entità della spinta l'intensità adesso improvvisamente c'è anche il VAR che decide quando c'è i rati al VAR decide lui quant'è l'intensità ma scusa mettiamoci d'accordo o decide uno o decide l'altro ma secondo me già il concetto non si può ogni volta cambiare sono d'accordo Marcello ditemi se sbaglio già il concetto del può intervenire solo in presenza di un chiaro ed evidente errore è già soggettivo è sparito è quello che per me quel concetto per me è sparito la spinta con una mano non lo è come anche nell'ultimo Lecce Juve quella spinta che è stata valutata di Bremer giustamente irrisoria ai fini della caduta in area magari trovavi al VAR qualcuno che la reputava chiaro ed evidente perché comunque è stato spinto ma quelle cose lì le può valutare soltanto il guardarine e l'arbitro mi possono valutare quelle cose lì perché sono lì e le vedono l'altro qua bene ok sta al VAR e vede ma l'intensità e allora ha avuto ragione Naska a non intervenire sulla spinta di Bastoni Duda perché la spinta l'ha valutata in campo di Berndon ma non c'è una spinta ma ancora con questa spinta come che era? sbracciata una spinta di govito sulla faccia era una sbracciata una sbracciata è vero divisi su questo ma che sbracciata nera azzurra cioè veramente non riesci più ad essere coerente con questo quando emerge la sua anima nera azzurra non c'è Chirico ti do una notizia che anche il tuo pupillo Bonfanti che non ha anime ha dichiarato cioè no nel senso ce l'ha non dicevo di colori calcini ce l'ha che fosse una sbracciata e non una gomitata ancora con questa cosa mappete colpa mia è colpa mia scusami però io ho una grande paura io e solo a Roli la pensiamo diversamente anche per me è una gomitata e quindi dato che ci sono visioni diverse ha fatto bene non intervenire perché non è chiaro ed evidente detto ciò io ho una paura enorme per questo turno di campionato che Rocchi non sappia non abbia capito chi è quest'arbitro questo incappucciato e lo faccia arbitrare e questo incappucciato vada in campo ad arbitrare come l'arbitra in questo turno questo qua che si è messo a parlare a sputtanare tutti quelli che sono accanto a lui e come è arbitrato allora quell'arbitro che è stato accusato da Murigno cos'era Roma-Bologna mi pare Bologna-Roma prima di Sassuolo-Roma ah sì Sassuolo ecco mi ricordo che era la Roma-Emiliana ve l'ho ricordata però lì c'è un allenatore giocatore che mette in discussione questo è un arbitro che deve arbitrare e fidarsi dei compagni di squadra per usare la parola di Rocchi su cui ha gettato fango incappucciato due giorni prima e metti che qualcuno di quelli con cui è designato ha capito che è lui come viene infatti si crea per quello che la situazione adesso è fuori controllo avranno tutti c'è una diffidenza globale si può dire avranno tutti l'auli perché gli viene mal di testa a pensare troppo però io sono dell'idea di Medievaristo che già il segreto quando lo sanno in due non è più un segreto adesso voglio dire questo è andato negli studi televisivi delle Iene con un giornalista dell'esperienza di Giulio Golia è ovvio che ci sia una riservatezza come? era un altro era Filippo Roma ah Filippo Roma scusa è vero è ovvio che ci sia una riservatezza non è che stiamo parlando di una protezione a testimoni magari racconta l'altro amico l'amico dell'amico ma direi se vuoi fare uscire la notizia si mettono quindi è maresca perché è l'unico che non è stato designato né in A né in B questa giornata però si dice possa essere l'arbitro di Inter Juve quindi è stato tenuto a riposo per arbitrare Inter Juve con la DOC ma perché non può arbitrare lo Stato? perché l'Inter non vuole cosa? può essere può essere perché non può arbitrare Orsato una partita più importante con Inter che non vuole l'Inter perché l'Inter non vuole se guardi Marcello al di là delle battute che stai facendo gli ultimi gli ultimi gli ultimi Inter Juve gli ultimi Inter Juve o comunque sia le ultime partite di grande cartello Orsato le sta facendo sempre meno perché è un arbitro che sta uscendo è un arbitro che sta uscendo e quindi stanno iniziando a far fare le parti importanti a quelli che saranno gli arbitri e quindi diventerà vedi come dice Beca sta uscendo da campo per entrare Orsato è uno che ha farà il designatore al posto di Rocchi a breve ecco arbitra le partite dei mondiali però in Italia deve essere messo da parte perché a qualcuno non piace posso dire che a me a prescindere non piace comunque ma non solo per anche quando arbitra a livello internazionale a me non piace tra i quattro che mi avete nominato tra quelli che mi avete nominato quello più esperto è Orsato in genere si faceva così ai vecchi tempi anche quando giocava a Beccalossi c'erano degli arbitri che erano agnolini però Marcello l'andata te la ricordi? l'andata te la ricordi? l'andata te la ricordi? è stata arbitrata più che bene direi ma insomma con quel gol che nasce da Darmian Chiesa tutto sommato mi sembra che sia stata tenuta sotto c'era un esizodio da discutere e c'era Guida non c'era Orsato appunto ha fatto un altro errore perché quell'errore lì su Darmian e Chiesa che poi è stato rilevato come contatto francamente molto discutibile la nuova politica anche di Rocchi è quella per cui si lamentò persino Pioli e il Milan che si dà alla squadra di solito anche solo il Milan Inter Juve non venivano arbitrate dall'arbitro emergente alla Serra ma si dava un po' un occhio di riguardo al di là del big match anche alle varie squadre blasonate che singolarmente insomma svolgevano il loro campionato Rocchi da questo punto di vista ha sparegliato le carte e ha fatto crescere molto questi giovani giusto o sbagliato con qualche errore ma anche con qualche poi arbitro ma anche lì ti fermo ma ci sono le fasce ancora di quelli sai che le fasce arbitrate allora da quello che ho capito in questi giorni per arbitrare questi big match ormai Rocchi vuole inserire solo arbitri che abbiano almeno 40 partite in Serie A arbitrate curiosità tu che sei più preparato lì ma cioè io decido che ho quanti 20 arbitri tutti a 20 ogni domenica chi capita capita perché secondo me anche lì andare a creare delle fasce può essere antipatico tra l'altro le fasce non ci sono ma sono create in automatico dal fatto che qualcuno è internazionale io ho usato le fasce perché c'erano però se io porto avanti 18 persone sono tutte valide sono tutte valide al di là che uno può sbagliare di più sbagliare meno però già da lì chi tocca tocca vai e cerca di sbagliare il meno possibile ben ritrovati prima di leggere il comunicato dell'AIA perché è stata dura anche la presa di posizione dell'Associazione Italiana Arbitri la proposta di Beccalossi ma perché ci sono comunque delle gerarchie ci si scervella mandiamo quello quell'altro non sarebbe meglio sorteggio no ma ci sta è un sorteggio cioè se io ho 20 arbitri ritengo che tutti e 20 siano in grado di arbitrare la qualunque il problema è quello perché il problema è quello negli ultimi anni non è vero che ci sono 20 arbitri all'altezza io faccio fatica a trovarne 3 all'altezza di però arbitrano anche gli altri arbitrano anche gli altri però gli riservano partite se tu fai la squadra cosa dici ci sono 3 giocatori gli altri non contano se ti mettessero Fabri a fare Juventus interno credo che sarebbero molte persone contenti ne ho venuto in mente solo Fabri il primo che mi viene in mente come ci sono i giocatori più bravi ci sono anche gli arbitri più o meno bravi però se posso evitare nella parola importante di mettere quelli meno bravi perché allora però per creare le situazioni un po' eh lo so beh però ragazzi questo è importante adesso siamo già a metà ne abbiamo visti in Europa di cotte di crude anche peggio di quelli che vediamo nel nostro campionato quindi cambia poco ma la tua allora ragazzi io direi non so come soluzione mi piace quella una un'idea quella di Evaristo poi sono d'accordo con Francesco come quando la tua squadra non va al di là che non sia solo colpa tua salta l'allenatore non vedo perché il designatore arbitrale non sia a maggior ragione adesso da mettere in discussione Marcello non sarà tutta colpa sua ma è comunque l'espressione ultima di questo mondo arbitrale che mai come quest'anno sta sbagliando ma sì sì vabbè come diceva prima qualcuno quando la squadra non va bisogna cambiare l'allenatore ma secondo me come dicevamo prima è da cambiare l'applicazione delle regole il modo in cui utilizzare questa benedetta tecnologia cioè così è veramente sprecata cioè hai un mezzo che ti può aiutare e invece sta facendo solo danni perché tu a livello soggettivo scegli delle cose non scegli delle a scegli di comportarti in una maniera piuttosto che in un'altra le regole francamente ad esempio guardiamo soltanto sui falli di mano no? ma vi rendete conto quanta varietà c'è nel fallo di mano adesso rispetto a una volta una volta era evidente cioè se uno prendeva la palla la prendeva con la mano era rigore ma dovevi proprio prenderla con la mano no? col braccio devi arla adesso basta sfiorarla alcune volte invece la sfiori non è rigore altre volte la prendi con il braccio che deve essere a 25 gradi 35 60 90 non si capisce niente francamente anche un regolamento ma lo hanno detto anche gli ex arbitri cioè che è stato è stato toccato troppo il regolamento e soprattutto il regolamento viene spesso interpretato il paradosso andiamo a cercare con il VAR delle immagini dei dettagli delle robe e poi abbiamo degli elefanti di errori e non li vediamo quelli questo qui è un altro paradosso incredibile pazzesco io sul fatto che alcuni elefanti non siano visti non ci vedo esatto andiamo a vedere fra le robine la vita ma l'accusa di questo arbitro nasce proprio da questo cioè nella nell'evidenza di alcuni episodi che non vengono valutati cioè perché non vengono valutati come si fa a non valutare cioè gli esempi che abbiamo e i famosi errori di Rocchi poi ce ne sono anche degli altri sui quali si potrebbe tranquillamente discutere però sono cose di una tale evidenza che semplificare è umano anche pensare che un po' ci sia dietro qualcosa due domande te le fai secondo me semplificare non può essere casuale semplificare il più possibile semplificare il regolamento tutta la vita quello tutta la vita ho avuto la fortuna di fare il calciatore spiegami e non sono mai intervenuto spiegami quando il braccio è fuori dal corpo ma se io devo fare un'entrata in scivolata spiegatemi come cavolo è vero è vero cioè facciamo la corsa dei sacchi con le braccia solo se sei in difesa però perché se si attacca quella cosa lì che studici oppure facciamo qualche anno fa aspetta Marcello l'ultima cosa non riusciamo a volte nella pressione che hanno i mille episodi quando uno va con la suola e già che vai con la suola vuol dire che sei già portato a un fallo fuori dalle regole che poi dopo non vai a fondo oppure ti fermi prima gli persi il piede vanno interpretati in un modo diverso perché se vado con la suola e la suola è alta vai per colpire l'avversario in quel senso ti do d'accordo sugli ex calciatori al VAR in quel senso ti do molta ragione sul fatto di avere gli ex calciatori al VAR perché ci sono degli episodi che alle volte mi dà l'impressione che loro non riescano a capirli perché non hanno giocato però l'ex giocatore non deve comandare è questa la cultura però ti faccio un esempio c'è chi comanda gli arbitri ti dà di come l'hai vista tu e tu gli dici la tua appunto fuori dall'escatore io ti faccio un esempio Coppa Italia Milan-Atalanta il fallo di l'entrata di Reinders su Deron che va addosso a Gabbia che poi piglia la testata su Gabbia e poi escono tutti due quello è chiaro che è rigore ma lì secondo me l'ex calciatore in sala VAR gli dice guarda che lo ha spinto non può non averlo spinto è evidente che sia successa quella roba lì capisci che era un movimento in quel senso ti do ragione sul discorso per esempio del fallo di mano tu dici come fa uno ad entrare in scivolata tu pensa che fino a qualche anno fa l'entrata in scivolata con il pallone che prende il braccio che si sta appoggiando a terra era rigore perché l'interpretazione era stata nel momento in cui tu scivoli ti prendi il rischio di prenderla di braccio e quindi ti fischio il rigore adesso quella stessa cosa lì non è più rigore ma si come se prende la mano prima di aver colpito una parte del corpo testa a mano c'è stato il momento che era rigore allora e cambiano in continuazione per questo dicevo prima del protocollo quante pagine che viene aggiornato di settimana in settimana ma perché è davvero così l'IFAB e poi l'AIA che applica il regolamento l'IFAB a livello internazionale poi gli arbitri italiani i protocolli sono nazionali esatto siccome in Europa gli altri campionati non hanno tutte queste stesse guardando quello che è successo in Real Almeria non lo so eh lo so in Spagna sono i nostri livelli però voglio dire quando si dice cambiando Rocchi non cambiano le cose forse un disegnatore che ha maggiormente a cuore questo tema il tema del cambiamento potrebbe dare una scossa no? all'AIA e di conseguenza alla diciamo c'è il protocollo ma poi va applicato potremmo anche pensare di mettere un disegnatore che non sia un arbitro o un ex arbitro scusate io vorrei che il signor Rocchi che è responsabile perché è l'allenatore degli arbitri si dimetta quando no ma al di là lasciamo perdere il discorso per carità secondo me se si dimette vuol dire che è colpevole ammette la sua colpa va a fine della sua stagione saranno delle elezioni e se cambia qualcosa io credo che sia positivo ma non è quello che volevo dire il signor Rocchi oggi quando vede un arbitro un signore al VAR che non non giudica quello che tutta Italia ha visto io lo prendo lo sollevo lo faccio stare a casa due mesi ma vi ricordate due mesi non lo mando arbitrare ancora non lo tengo ancora lì Gianni ma se ti hanno detto della spinta di Bissec che era un errore evidente è stato messo nella tabellina certo nella trasmissione OpenVAR la stessa spinta prima è stato detto che era un errore grave poi dopo alla fine Ema Errati che era quello al VAR che doveva valutare la spinta Ema Errati in arbitro internazionale ha un metodo di giudizio delle spinte un po' diverso forse ha più ragione di lui ma si può dire una roba del genere l'ha detto loro non l'ho detto io non c'era Rocchi c'era Gervasone non si può dire una roba del genere non si può dire ma ha ragione Gianni ma si può dire una roba del genere c'è un metodo suo come non si può dire la famosa battuta super infelice però rigore l'hanno sbagliato loro ma perché l'hanno detto perché era Errati l'hanno dovuto dire perché era Errati perché era il miglior barista che ha a disposizione ed è uno che ha un peso nella cerchia politica ed è quello che stava torna all'uomo incappucciato siamo tranquilli torna all'uomo incappucciato l'uomo incappucciato sta denunciando questo Errati sbaglia e viene difeso anche davanti all'errore più lampante perché? perché farà parte degli amici di Rocchi è la voglia di Cesare non si può discutere Errati allora ragazzi ma infatti anche nella giustificazione adesso non è per ritornare sul discorso perché è stato uno degli errori ultimi no? quello della della gomitata di bastoni pesante però Rocchi quando gli hanno chiesto ti ricordi no? in conferenza stampa come mai secondo lui ci sia stato questo difetto di comunicazione c'è un VAR che prima vede poi decide di non richiamare l'arbitro ha fatto una roba una una come dire un volo pindarico dialettico una supercazzo bravi sì volevo dirla volevo trovare una bravissima Francesco ormai è nel termine termine senza dire che ha sbagliato quindi tutto questo mi fa capire che lo stato attuale delle cose vada più che bene a Rocchi perché? non prende posizioni contro chi sbaglia evidentemente lì doveva dire no il VAR ha sbagliato a non richiamare l'arbitro ha maggior ragione visto che se ne ha accorto è chiaro è chiaro è comandante però poi l'altra cosa nel calcio ha cambiato tutto ha aumentato gli scontri fisici a livello tattico la velocità e tutto l'unico che non ha cambiato è quello mino vestito di nero in campo quindi però ragazzi gli ha andato una Ferrari per girare non va più in bicicletta come prima c'ha 18 telecamere una volta ti ricordate non è mica tanto tempo fa quando avevano messo due uomini dietro la porta per aiutare l'arbitro bravo sei andato benissimo stavo arrivando che l'unico è rimasto da solo però sai c'è la gara è da solo lui c'ha dietro un'organizzazione e bisogna che trovino la collaborazione loro perché l'arbitro da solo è cambiato tutto e adesso è rimasto solo uno in campo quindi prima di parlare ho prese decisioni sono sempre più ripensandoci sono sempre più d'accordo alla proposta non quella del solcheggio ma di avere la squadra cioè l'arbitro non è uno ma è arbitro assistenti e var insieme che fanno carriera tutti insieme esatto cioè è un blocco è un blocco cioè tu non designi l'allenatore il suo preparatore orsato c'ha il suo varista orsato c'ha il suo varista e se sbaglio così sono nella stessa squadra per forza io a caso gli arbitri avevano i soldi i loro due ma è vero gli assistenti erano così a volte non parlavano neanche ma si capivano dal gesto che io li vedevo ero giovane meno che ero giovane però osservavo l'arbitro aveva un dubbio subito guardava il suo collaboratore ma era sempre il collaboratore si sono due concorrenti con due personalità due carriere diverse due carriere diverse due carriere diverse due carriere diverse due guardarine adesso li potremmo abolire tranquillamente non servono più a niente ecco ma il discorso della squadra che l'arbitro si muova in squadra porti con sé la sua squadra e quindi non ci sia più quell'antagonismo per cui il VAR ci sono degli equilibri consolidati io scusate io sarò insistente su questa cosa io sta cosa dell'antagonismo tra l'arbitro e VAR faccio veramente fatica a capirla cioè io non capisco per quale motivo un varista dovrebbe non segnalare una cosa a un arbitro andandoci di mezzo perché l'arbitro ci rimette perché non ci va non ci va di mezzo ci rimette il varista non ci rimette l'arbitro ma neanche il varista ci rimette il varista allora io se io sono al VAR per l'opinione pubblica Francesco ma magari quel varista non viene lasciato a casa però poi la volta dopo non sono più al VAR ma sono in campo e quell'arbitro me la fa pagare e ci andrà di mezzo lui che fa il VAR cioè le responsabilità sono abbastanza evidenti le linee sono due le responsabilità sono abbastanza evidenti cioè ma tu togliti sto problema sceliti un episodio a caso che noi abbiamo visto cioè se l'arbitro non vede e il VAR non lo richiama la responsabilità è del VAR e se io sono al VAR ma perché non devo chiamarlo finendoci di guai io perché non ti vuoi far nemici Francesco ma poi sto all'uomo incappucciato voglio dire no? fazioni politiche che magari più forti nella tua se io non lo chiamo vengo io sospeso dal VAR e se invece lo chiami e la tua chiamata è sbagliata ma se io lo chiamo e ho visto una cosa evidente lo chiamo e so di aver ragione però scusa Francesco cioè se io sono il varista di scegliete un episodio non voglio dirlo io perché no baschi rotto nell'intervista non c'è che se tu arbitro vai al VAR e torni sulla tua posizione cioè non confermi la decisione ma dai ragione al VAR vieni penalizzato e quindi magari l'arbitro emergente dice aspetta un po' che prima di far penalizzare Orsato che è amico di Cip che è amico di Cioc ma se Orsato prende una topica clamorosa e tu stai al VAR e la vedi sta roba qua si per l'opinione pubblica lo salvi ma poi nelle gerarchie interne non lo salvi perché chi va al VAR è penalizzato ma è una chiamata corretta ma già che chi va al VAR è penalizzato ma ti pare logico non vai ma infatti no io su sta cosa su sta cosa io non ci credo che chi va al VAR è penalizzato perché non ha senso se non ha senso se non ha senso se non ha senso se non ha senso che tu non ci creda ce l'hanno raccontato ma la realtà cioè almeno 0,3 se vai o per ogni review fatta è il punteggio alla fine è terribile invece che 6 diventa 5,7 ma dipende ma ci diventa 5,4 ma infatti le soluzioni ripeto ma è terribile togliamoci questo dubbio togliamoci questo dubbio o fai la squadra o dividi le carriere la cosa della squadra mi sta benissimo o dividi le carriere chi fa il VAR fa solo il VAR chi fa l'arbitro fa solo l'arbitro la prima cosa era quella infatti la divisione delle carriere fare dei varisti specializzati brah no ma se comunque si sostiene che il varista non chiama l'arbitro perché comunque si sente un gradino sotto e allora la soluzione può essere la soluzione potrebbe essere quella della squadra perché così ma come si sente un gradino sotto ma no cioè fino adesso abbiamo sempre detto che invece è il contrario che il varista che praticamente pilota l'arbitro in campo dovrebbe essere così dovrebbe essere così ma non è così tant'è vero che i varisti gli arbitri non li chiamano in quest'ultimo periodo perché poi va a moda se io mi fidassi a volte li chiamavano scusa Francesco se io mi fidassi di chi ho lì non ho il dubbio lo chiamo non chiamo perché sennò lui vado con la mia decisione ecco se io arbitro o varista sì arbitro se io ho un dubbio che ho il mio team ti conosci e dici aspetta non vedo vado dal mio uomo per togliere i dubbi che ci possono essere ma quella della squadra ci sta infatti ma io mi piace come idea non dico di no non dico di no no poi c'è di mezzo anche lo sai con più partite importanti arbitri hanno la scala contratti credo premi secondo me è assurdo che se vai al VAR vieni penalizzato secondo me mentre un po' più di ordine c'è un contro senso cioè tu vai al VAR per correggere vieni richiamato e se vai al VAR sei penalizzato dello 0.3 0.3 è allucinante in altri momenti Rocchi ha detto che questo non è vero poi se adesso ha detto che è vero io non lo so però fino a tre conferenze fa mi ha detto che non era così però Rocchi dici sì sì e adesso scopriamo ma sai che qua cambiano le cose anche loro come il protocollo si aggiornano è allucinante scopriamo una cosa alla fine di ogni partita c'è una valutazione nella valutazione contano anche le chiamate di revisione e le per i VAR quante volte richiamano che poi è quello che ci dice può essere positivo o negativo è anche un senso perché vuol dire che tu comunque qualcosa che dovevi vedere non l'hai visto l'ha dovuto aiutare quell'altra quindi la tua prestazione è insufficiente ci possono essere mille ragioni non può essere automatico mi chiamo al VAR meno 0.3 ma non esiste al mondo tutto quello che vuoi però voglio dire potrebbe avere un senso il fatto che certifichi che tu sei stato chiamato tre volte nell'arbitro di campo è quello che dovrebbe vedere tutto ma non può vedere tutto adesso è ancora così è il problema di fondo per cui continuo a ripetere diamo il fischietto al VAR il VAR non può però a questo punto avete ragione voi diamo il fischietto al VAR è penalizzato il VAR che nella comodità della stanzetta riscaldata con l'immagine bella non richiama l'arbitro a quel punto non deve arbitrare per due mesi cioè deve essere talmente eclatante la punizione che lo dobbiamo sapere tutti ce lo dobbiamo ricordare e siccome non dimentichiamo un particolare una volta prenderono dei rimborsi spese quando giocava Evaristo adesso prendono dei bei soldini gli arbitri stai due mesi senza prendere i soldini c'è il carriere c'è l'ambizione c'è tutto quindi non è semplice quanto prenderà infatti l'arbitro incappucciato lì con la profonda dice che è l'unico modo per punire un arbitro evitare non farlo arbitrare più perché così almeno incidi sul portafoglio esatto lo vai a colpire sulla cosa che non è un dettaglio assolutamente ben ritrovati allora chiudiamo il discorso arbitrale leggendo il comunicato ufficiale dell'associazione italiana arbitri che ha preso una dura posizione nei confronti dell'intervista rilasciata a Filippo Roma da questo arbitro in attività in serie A incappucciato l'AIA ovviamente è stato molto Francesco è stato molto duro il comunicato dell'AIA c'è stata una ferma e compatta ma come era ovvio e prevedibile di fronte poi all'anonimato è normale che l'anonimato ti dà la forza anche di essere pesante nel dire se ci sono cose vere in quello che dici abbi la forza e il coraggio di presentarti nelle sedi opportune di dire quello che abbiamo fatto altrimenti taci e non infangare così ti tritiamo come della carne tritta diciamo comunque in sintesi è questo immagino le riunioni mamma mia tu sei la riunione con tutti gli arbitri e tu stai parlando e mentre parli li guardi a uno a uno come una squadra quando sei chissà cosa passa nella testa ma voi pensate quando questo è andato in onda che giro di telefonate fra chi è chi è chi è secondo te secondo me sono esplosi i telefoni di tutti gli arbitri gli assistenti c'è stato un caccia alla talpa pazzesco perché poi sono esseri umani tu da solo con il tuo team come una squadra che ti chiude in uno spogliatore e parli c'è deve essere un momento mamma mia è vero sarebbero belle delle telecamere in queste situazioni cambiamo smicciamo argomento mercato calcio mercato perché c'è un calcio mercato qui che voglio dire magari non è su gennaio quello di cui parliamo ma è qualcosa che sta facendo preoccupare perché parlo di inter il nostro titolo è allarme lautaro parla il procuratore l'inter trema ma non è la prima volta che parla il procuratore l'inter trema diciamo che le ultime dichiarazioni del procuratore che andiamo a vedere in grafica di lautaro martinez arrivano dopo quelle confortanti di marotta dopo la vittoria della supercoppa in cui a proposito del rinnovo ha detto ma non c'è fretta siamo stati poi presi dagli eventi del giocare ogni due giorni per questa trasferta a riad però una cosa è certa rassicuro i tifosi Lautaro è un passo dal rinnovo beh due giorni dopo il suo procuratore dice testualmente Lautaro assieme ad Holland è il miglior centroavanti in Europa è a livelli altissimi sulla trattativa diciamo che le idee sono vicine ma trovare un accordo non è facile perché ci sono tanti aspetti di cui discutere al momento non c'è ancora l'intesa ma lavoriamo per quella e parliamo con l'Inter con Costanza c'è tempo per riuscirci lui sta bene nella sua squadra è un progetto poi se arriviamo a un accordo benissimo altrimenti nel calcio siamo tutti professionisti il problema è che parla con l'Inter con Costanza c'è chi è stato dove parlare con Marotta non con Costanza se no non lo fa mai vedi Chirico Tramacere come cerca di non lo fa mai allentare la tensione gioca in prestita all'Inter Lautaro questi sei mesi quando c'è l'Inter di mezzo no però piuttosto ma perché stiamo a parlare adesso al quantina abbiamo 25 di gennaio 2024 cioè di un contratto che scade nel giugno 2026 perché vuole il ritocco il suo procuratore vuole i soldi perché vuole i soldi da 6 a 10 e lui ha detto vuole sfruttare il momento e beh chiamalo fesso ha detto che si umilia ad Allant quindi voglio dire come dire ha fatto perfettamente il lavoro di un procuratore con i tempi perfetti di un procuratore che ha messo il suo giocatore sul mercato come dire l'Inter vince la supercopa con gol di Lautaro è il momento giusto però fossi l'Inter fossi l'Inter lo manderei a Stend gli direi senti ma l'hai visto il calendario cioè a Bipa ti abbiamo parlato di Scalma adesso guarda Marcello che secondo me si arriva uno di questi inglesoni con l'abito da arabo e gli picchi all'Inter un bel 120 130 quello che può volere Lautaro credo che l'Inter non è che gli prende un aero privato e lo manda a Londra ma non lo so non lo so ma sono tanti soldi sistemi il bilancio ma certo è vero che hai il gran centro avanti che perdi però dobbiamo togliere allora il romanticismo anche alle dichiarazioni di Lautaro allora mi fa ridere quando il giocatore davanti un po' alla screener diciamo l'Inter sono dell'Inter faccio solo tutt'uno con i colori mi tingo di nello però sono un professionista e poi il procuratore in parallelo dice no fa dire al procuratore perché è più comodo in parallelo sono sul mercato se mi date 12 milioni corro allora non dire chiami lì va a far credere ai tifosi che il rinnovo è solo una formalità perché non è una formalità mi sembra di capire no becca cioè no non parlo però ne parla è il procuratore che ne parla ma no ma quello fa il suo lavoro io so la realtà di Lautaro nel caso di oggi arriva uno con un carico da 11 e quindi lo prendi lui sicuramente non è come l'altro che avevamo lui è attaccato cioè e poi dopo a livello economico i numeri uno li deve accontentare ma non credo che il futuro di Lautaro sia via dall'Inter anche perché lui è arrivato qua ragazzino si è costruito la casa il palazzo mattone dopo mattone e credimi e credimi cioè poi dopo nel caso ormai di certo non c'è niente però tutte le premesse però già il fatto me preoccupa che il procuratore va beh cura i propri interessi però lui c'è ancora due anni e mezzo di contratto quindi può essere una mossa per avere un po' più di soldi ma come persona come giocatore come persona come persona credimi è uno è uno affidabile no no ma io ci posso anche credere arriva uno e ti dà 200 per carità però Ivaristo lui dice una cosa il procuratore lui parla di professionismo lui dice comunque siamo tutti professionisti per cui non è che un bravo ragazzo diventa non più un bravo ragazzo perché è un professionista se gli arriva un'offerta da 15 milioni credo che quanto prende Haaland quanto ne prende 18 mi sembra 18 bonus compreso lui si parametra su quelli della serie A su Zimene Vlaovic sono parlato perché vedi che succeda arriva un carico da 11 lui riferisce a Lautaro c'è questa offerta così poi è Lautaro che dice e secondo te Becca secondo me ci può pensare anche Lautaro cioè ha ragione Gianni credo che sei sulla stampa perché chi conosce meglio Lautaro deve deve succedere perché lui si trova bene tutto soldi è diventato leader capitano ha sposato la causa al mille per mille poi l'unico dubbio che ho io che arriva magari qualcuno lì con un carico da 11 allora lì subentano altri io ho detto il carico da 11 che non è incredibile non ce n'è altri però mi aspetto anche che se arrivasse un carico da 11 lui è capace di no io sto talmente bene qua e non metto in discussione i qua 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 subito e Dio denaro ma guarda che nessuno discute sulla serietà di questo ragazzo dico solo no ma state già mettendo in noi no io sto dicendo che siccome è un professionista si ma fa suo interesse perché però poi alla fine fa l'interesse l'autaro e non solo il suo si ma alla fine è l'autaro che dà l'ok io per quel poco che lo conosco mi sembra siccome gli equilibri io spero che non siano come quelli di Donnarumma con il povero Raiola perché là mi pareva se fosse più Raiola che comandare diversa perché io se fosse un tema vado a chiedere perché l'hanno mollato a zero prima cosa e non andare perché l'hanno mollato a zero dove è andato ti chiedeva 10 milioni quindi voglio dire cosa fai allora ha deciso che 10 milioni non li poteva dare però al di là di quello voglio dire lì forse ha deciso più il manager di quanto abbia di calciatore invece io prendo atto che magari invece per l'autaro può essere un discorso diverso visto che non sono io giudico i fatti non è la prima volta che il procuratore viene fuori con queste dichiarazioni quindi credo che se fossero malgradite al suo assistito il suo assistito gli avrebbe detto non dirle più credo anche tramacere dimmi se sbaglio poi voglio sentire Chirico che questi 10 milioni questo carico di cui parlava Beccalossi che è facilissimo che arrivi perché è un giocatore straordinario Lautaro Martinez Lautaro li voglia dall'Inter quindi comunque è spinoso il rinnovo perché lui dice sì rimango non vado via a zero ma dammi 10 perché all'estero gli erano anche 12 è spinoso proprio per questo perché c'è una distanza economica del rinnovo di Lautaro abbiamo iniziato a parlare già la scorsa stagione perché in piena campagna acquisti sempre la gente di Lautaro arriva in sede si fa vedere dalle telecamere esce e dice stiamo trattando il rinnovo quando ancora ne mancavano tre di anni non due e mezzo non due e mezzo perché era all'inizio di questa stagione Lautaro sostanzialmente vuole che gli venga ha riconosciuto il fatto di essere leader di essere uomo squadra di essere uomo simbolo in questo momento non è neanche il giocatore più pagato della rosa il giocatore più pagato della rosa c'è la Noglu non lui quindi lui dice se io sono questo per te allora premimi ricompensami da parte dell'Inter c'è la volontà di ricompensarlo di fargli guadagnare qualcosina in più però nei limiti di quello che è al momento consentito dal budget che ha l'Inter quindi la proposta che gli stanno facendo è otto bonus compresi rispetto ai sei che guadagna adesso è un passo avanti siamo d'accordo tutti quindi per l'Inter questo è al momento il massimo sforzo che non è abbastanza Lautaro ne chiede dieci perché? perché è consapevole che in premiera dieci ci arriva anche con il Bornemouth li trovi perché non puoi conoscendo un po' lui è chiaro che è diventato il numero uno tra virgolette lo devi cercare di accontentare però io mi aspetto anche per quel poco che lo conosco che se arriva un'offerta è capace di dire io sto talmente bene qua io cercavo di far capire è diverso dagli altri perché ho conosciuto un po' il tipo come è poi dopo non ho le certezze perché anch'io però a parità io però ho un'altra certezza dipende quanta discrepanza cioè se uno viene da undici l'Inter dieci ci sta il tuo ragionamento e sono d'accordissimo ma anche dieci e otto bisogna vedere l'identità ma dieci e otto 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 io però ho un'altra certezza ma l'Inter negli ultimi anni se l'Otaro non accetta questo rinnovo l'Inter comunque ha per adesso ancora il coltello da parte del manico perché il contratto è lungo è 2026 quindi se l'Otaro riceve l'offerta da 15 facciamo così la distanza è ampia e non possiamo discutere 15 e accetta deve comunque portare 130 milioni all'Inter se no l'Inter è libera di dire no quest'anno l'Otaro resta qua e si tiene i suoi sei punto Marcello cosa ne pensi? se continua a segnare così riporta di sicuro e nel caso in cui se continua a segnare in questa maniera riporta di sicuro facciamo un ragionamento extra facciamo un ragionamento extra se qualcuno in Serie A se qualche club estero porta in Serie A un'offerta da 130 milioni per qualunque giocatore dimmi chi in Serie A è disposto a rifiutare un'offerta del genere nessuno ma per nessuno il rischio dell'Inter è anche che arrivino delle offerte grosse per l'Inter oltre che per l'Otaro per la proprietà questo forse è una fortuna però io ti dico per quel poco ci sta i ragionamenti che stiamo facendo però ti ripeto l'Otaro ne fa più secondo me del suo ingaggio non dell'offerta perché l'offerta è importante e arriverà però se lui gli metti a posto il contratto è capace di frega niente della richiesta però lì subito è stato il discorso che faceva già anni le società italiane in questo momento se arriva qualcuno con un carico da 11 nessuna società magari ti stai chiamato e gli dice io sono a posto con l'Otaro e non è nessuna parte è successo con Lukaku il primo anno sì però c'è nel senso che tutte le volte che è stata posta la questione all'Otaro in persona l'ultima è stata la supercoppa in conferenza stampa prima della finale lui non ha mai parlato come parla Evaristo non ha mai detto pubblicamente sì ma non c'è nessun problema discuteremo tanto io sono attaccato all'Inter voglio restare qui all'Inter non l'ha mai detto non ne è mai sfuggita tanta parola così ti dice vediamo 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 no in realtà in realtà un paio di dichiarazioni in cui si è spinto oltre Marcello in realtà un paio di dichiarazioni in cui si è spinto oltre nella direzione che sta raccontando Evaristo le ha fatte ed è il motivo per cui stride il discorso fatto dalla gente esatto perché se il giocatore ti dice la volontà mia è quella di rimanere all'Inter stiamo parlando lo può fare anche per cito Francesco per paraculismo no? nel senso io sono il leader di questa squadra dico questo però quello che diceva Marcello è non l'ha mai detto in realtà l'ha detto magari non usando le parole specifiche le parole specifiche voglio rimanere all'Inter non me ne vado da qua non mi ha detto ma che non lo dirà nessuno ma che sia una questione semplicissima la ricomplico a mio avviso in una maniera molto semplice oggi l'Inter ha bisogno di adeguare uno stipendio all'Autaro poi è chiaro che fino a un certo punto l'Inter potrà arrivare 9-10 milioni non lo so però se arriva una proposta importante per un giocatore che ha fatto 18 gol nel giro d'andata e forse rischia di farne 30-35 a fine campionato è chiaro che non può rimanere non sotto gli occhi di chi conta a livello europeo allora lì ti arriva una proposta importante però magari a lui ne danno 15 milioni non 10 allora a quel punto anche se l'Autaro è legatissimo all'Inter all'ambiente è un bravissimo ragazzo ma male se 7 dicembre ne ho preso una a casa la prima che mi è venuta fuori l'Autaro dice mandamela manda dimmi aspetta dopo la pubblicità tirico lasciamo un po' di suspense dopo la pubblicità leggerà la dichiarazione della notte è uscita la pasta stai a 4 giorni perché Marcello legge solo quello che legge legge mercato e volevo ricordo che c'è questa dichiarazione di Lautaro del 7 dicembre giusto che tu volevi inoltrare Sant'Ambrogio ho preso la prima che mi ha suggerito il il signor Google mister Google era un'ansa del 7 dicembre in cui Lautaro dice sul rinnovo manca poco non c'è problema e sono tranquillo firma a capodanno spero anche domani sono tranquillo e sereno qui mi sento bene ho tanta voglia di rinnovare mancano solo un paio di dettagli qui mi sento bene anche la mia famiglia sta bene la gente mi vuole bene io ne voglio loro la società farà la sua parte io sto facendo la mia quindi lui che si è sbilanciato sono due milioni quei due milioni esatto poteva chiamarli fischioni invece che dettagli però insomma posso avere un paio di dettagli però se li verita ragazzi questo se li verita però era per specificare che non è vero che Lautaro non ha mai detto che vuole rinnovare ultimamente pubblicamente è anche il gioco delle parti cioè in questo momento fa parlare la gente fa parlare la gente lui comunque agli occhi dei tifosi risulta come quello che vuole rimanere all'Inter se arrivano 130 milioni di euro sarà l'Inter ad averla venduta ad averlo venduto e non lui ha essersene voluto rimanere però i tifosi dell'Inter negli ultimi anni hanno iniziato a capirlo questo giochino ma era ovvio finalmente ma la buonora lo ha capito Milano quest'anno con Tonali l'hanno capito tutti che se arriva un'offerta un anno fa stavamo dicendo le stesse cose di Lukaku che era quello che per amore dell'Inter era tornato perché aveva coronato il suo sogno e poi abbiamo visto com'è finita ma è sempre l'Inter però anche lì secondo me non per essere puttiglioso l'unico giocatore di quell'anno lì che era insedibile era Lukaku perché se l'ha trovato bene a Milano era diventato il cocco dei tifosi poi è successo che c'era qualche problemino e gli ho detto guarda che forse devi partire perché se no sono problemi perché sono arrivati i famosi 120 milioni la prima trattativa era 100 più un giocatore invece ha detto no vogliamo 115 cash perché dietro c'era una situazione un po' particolare e io sono convinto che se le cose fossero normali Lukaku sarebbe ancora all'Inter ma è stato costruito ma se questo non fosse un mondo un mondo cosa? è fatto di che segue logiche di difficoltà economiche di denaro di difficoltà economiche certo per quello che non si può essere certi della volontà del giocatore perché anche la volontà del giocatore è come dire è vittima no? prima Manuera ha tirato fuori una cosa forse eravamo in pubblicità il decreto crescita voglio dire è un problema che limita tantissimo le società perché oggi certi ingaggi che ci si poteva permettere prima facendo degli sforzi perché erano comunque compensati da una riduzione fiscale oggi questi sono stati completati e cancellati per cui vedrai che va detto che non è il caso di Lautaro Martinez perché lui stiamo parlando in generale adesso non era l'Italia sia un campionato di passaggio purtroppo l'anno scorso sono i numeri quest'anno facciamo un esempio quest'anno Lukaku alla Roma c'è potuto andare non solo perché in prezzo ma anche perché continua ad avere i vantaggi del decreto crescita lui se no la Roma non si sarebbe potuta permettere Lukaku l'Inter l'anno scorso uguale l'ha riportato indietro entro il 30 giugno perché se arrivava l'1 luglio non poteva continuare ad avere i vantaggi del decreto crescita ma guarda c'è un esempio io parlo sempre della squadra che seguo che è ovviamente il Milan cioè noi ci siamo sempre orientati stranieri a manetta guarda caso ho finito il decreto crescita il primo italiano siamo stati a prendere la Verona sarà un caso però è un orientamento anche che sta cambiando magari non sbagliato magari non sbagliato ma tu figurati io sono favorevolissimo guarda anche perché poi si dice si è tanto distrattato ma il nostro campionato forse è più valido di quanto venga considerato però dal punto di vista economico siamo molto indietro rispetto agli altri però quest'anno Turam non l'avresti avuto Loftucic Reinders Pulisic non ne avreste avuti parecchi i giocatori che oggi fanno il campionato italiano di Al Zulip rispetto all'estero se arrivano all'Inter si arriva in offerta per Lautaro al Milan si arriva in offerta per Mignon o Teo Hernandez al Napoli e poi ne parleremo magari per Osimè perché arriva e Osimè l'anno prossimo è più in Italia e purtroppo è questo perché comunque siamo un campionato terra di conquista che non ha la foto che non poterò per i bilanci però su 10 magari 2 sono ancora fuori d'accordo non puoi fare 10 10 può essere può essere a me la cosa io ho vissuto l'ambiente interista adesso non per dire perché però in ultimi anni sono state anche tante difficoltà tanti giocatori a parametro zero quindi la squadra è sempre rivasta competitiva nei primi ma non è la critica quindi sciapo poi l'altra cosa che mi ha colpito io ho vissuto quell'ambiente io lo conosco bene c'erano sempre problemi adesso anche l'ultimo che è qua da tre mesi ho trovato una disponibilità nel gruppo che sembra che giochi nell'internet già da 4 5 anni quindi le situazioni cambiano non è come e comunque contro il fatto che la squadra che sta vincendo aiuta a vincere per creare gruppo ma negli ultimi 4 anni ho sentito voi libri tribunale ne avete letti tutti i colori ma sono giusti secondo me ha fatto delle cose eccezionali perché sappiamo grandi risultati sportivi grandi debiti io dico su 10 magari 8 ragionano come voi vanno via la valigetta magari puoi trovare ancora due che magari mi sbaglio io può essere diciamo che le dichiarazioni del procuratore fanno fanno pendere la bilancia 50-50 in questo momento diciamo che quello che dice Beccalossi può essere allora Evaristo creda ancora nelle bandiere io non ci credo più ma no ma lui è anche delle bandiere e lui fa bene perché è un calcio che io adoro e lui non ce la chiede poi nella vita di certo non ce niente credo che quando vai a toccare dei tagli io ti porre porto l'esempio di Lukaku Lukaku è stato ha dovuto cioè perché era l'ultimo giocatore che la società voleva vendere e lui era l'ultimo giocatore che aveva mai preso in considerazione di andare via e lì è una situazione per Lautaro mi sbilancio magari mi sbaglio ma Lautaro messo a posto credo che anche l'Inter si riprende la prima volta però però Ivaristo messo a posto se l'Inter ha la forza economica di metterlo a posto però scusa l'Inter ha la forza economica di metterlo a posto cioè da 6 a 10 può permettersi un ingaggio del genere per come ho avuto modo di capire io che non lo conosco da vicino come Ivaristo penso che piuttosto che il milione due se la moglie decide che vuole rimanere a Milano non si muove e beh firma ma scusa se la moglie decide cioè siamo al 7 dicembre ti ha detto che ne sai magari la moglie a Liverpool non ci vuole andare a Madrid si dipende anche cosa arriva si ma capito cioè io voglio dire se nel momento in cui lui dichiara il 7 di dicembre firmo anche domani non devo aspettare neanche il capodanno ci sono solo dei dettagli e questi dettagli non sono roba da poco perché è passato già un mese e mezzo e il procuratore non firma allora non è che sono più piccoli dettagli io in realtà c'è anche l'altra parte che non stiamo raccontando l'Inter non ha fretta di rinnovare il contratto di Lautaro certo vabbè ovvio anche l'Inter anche l'Inter fa il suo gioco in questo momento la priorità non è far firmare un aumento di ingaggio che incide fin da subito un bilancio che è sotto osservazione ma allora perché ne parliamo perché nel momento in cui uno nel momento in cui uno dei tre agente società e il giocatore parla gli altri rispondono no ma secondo me Chirico intende cioè perché Lautaro ha sollevato il problema del rinnovo evidentemente dice se io mi faccio quello che mi faccio tutto il campo i gol sono il trascinatore il leader prendo meno 19 che è altrettanto bravo tu sei partita tu sei partita sei partita e il soggetto della nostra discussione di questa sera sono le dichiarazioni del manager allora le dichiarazioni del manager lette dicono semplicemente che rappresenta un giocatore che in questo momento è un leader al mondo del suo ruolo e che è un professionista quindi lui sta benissimo dov'è? tutto bene oggi domani non lo sa e non è che possa dire no sta qui tutta la vita perché non sarà bene anche serio soprattutto Gianni è un professionista che ha fatto 21 gol in 27 28 partite stagionali quindi in questo momento che ha gli occhi del mondo addosso il procuratore vuole monetizzare una stagione clamorosa certo perché se non rinnova e l'anno prossimo Lautaro ne fa 5 e il gioco dell'Inter è temporeggiare il più possibile ma è giusto così ma il gioco delle parti l'Inter temporeggia perché ha un contratto la gente non vuole temporeggiare perché ogni gol chiaramente aumenta la valutazione e può andare a parte delle persone ma non toglie nulla alla seriessà di Lautaro e alla sua professionalità e al suo attaccamento all'Inter scusate ma quando si parla allora è vero Lautaro attaccato all'Inter è tutto ci sta che quando il procuratore dice siamo dei professionisti tolga il cuore da questo discorso poi mi dite Lautaro non la pensa come il suo procuratore va bene allora questo è un altro discorso ma non è vero che non la pensa come il suo procuratore allora basta ma noi abbiamo un esempio scusate abbiamo un esempio sotto gli occhi di tutti che è successo lo scorso anno più milanista di Tonali c'era qualcuno si era ridotto lo stipendio addirittura per rimanerci è arrivata un'offerta che la società ha reputata congrua un'offerta economica per lui che francamente era irrifiutabile lui è milanista fino alle vescele vorrebbe essere a Milano anche stasera però è andato in Inghilterra questo è quello che succede e può succedere a chiunque magari non ha Lautaro non lo so il problema è che i giocatori fanno sempre quello che gli dice il procuratore sempre tant'è vero che Lautaro come ha letto prima Tramacere il 7 di dicembre dice liberamente ciò che pensa quando abbiamo visto per quello che vi riferivo alla conferenza stampa di Supercoppa prima della finale perché lì glielo chiedono ancora i colleghi sono andati lì a chiedergli ma scusa ma sto benedetto contratto il rinnovo eccetera lui lì è molto evasivo perché? perché lì il procuratore gli ha detto non ti esprimere più quando ti sei espresso il 7 di dicembre lascia fare a me si è evasivo su sta roba infatti lui è molto evasivo di lui vediamo non so non so non so dopo aver detto sto bene il 7 di dicembre quello che ha detto Tramacere lì ha detto non so perché? perché il procuratore gli ha detto non dire più niente di sta roba quando ti fanno la domanda ci penso io ci penso io basta è vero infatti quello che dicevo prima è che tu ricordi le ultime dichiarazioni proprio quelle di gennaio pre Supercoppa è vero che fino a quelle dichiarazioni lui aveva sempre detto che è una formalità una formalità che comunque ha tirato in ballo lui perché da un punto di vista numerico non c'era bisogno di questa formalità come durata del contratto allora a questo punto vi chiedo così chiudiamo il discorso il discorso inter Tramacere secondo te la prospettiva di mercato più plausibile è che ci sia un rinnovo contrattuale che Lautaro stia ancora che ne so x anni un anno quel che l'è con un nuovo ingaggio e comunque con la tranquillità dell'Inter di dire scade fino al 2028 magari glielo rinnovi glielo prolunghi di un anno o due oppure se arriva l'offerta monstre potrebbe arrivare dalla Spagna dall'Inghilterra per me una cosa non esclude l'altra cioè Lautaro io mi aspetto un rinnovo di Lautaro in tempi brevi io mi aspetto che se arriverà sto rinnovo arriverà verso la fine della stagione ah ok non adesso ma anche se dovesse firmare sto rinnovo comunque l'offerta può arrivare comunque l'offerta può arrivare e lì sarà la società a decidere ma guarda allora forse mi conviene venderlo perché per i miei conti va bene così e allora mi rimetto a parlare con Lautaro e gli dico guarda Lautaro mi spiace ma a me serve che te ne vai già succederà ci sta guadagnando anche a non aver chiuso il contratto fino adesso perché questo giocatore sta facendo faville e il valore sta aumentando anche per loro quindi voglio dire Lautaro di giugno dello scorso anno ha il valore di questo Lautaro di oggi non credo non credo certo era un giocatore sicuramente di grande livello però oggi obiettivamente ha un altro valore e forse a fine stagione ancora di più certo cresce di partita però un attimo sola cioè se loro rinnovano e gli aumentano lo stipendio è chiaro che con l'aumento di stipendio loro possono chiedere ancora di più sul cartellino certo capisci? ecco perché conferrebbe anche all'Inter rinnovare va bene gli metto 8 intanto da 6 a 8 il valore del giocatore è aumentato automaticamente quindi mi devono dare un valore che sia corrispettivo di quello che lui prende c'è clausola c'è un giocatore che vale 8 milioni che prende 8 milioni è un giocatore che ti fa anche tutti quei gol minimo minimo ti vale 100 e passa milioni e possono inserire anche una clausola in fase di rinnovo si usa tanto come ha fatto per Osimen è rimasto molto contento a Napoli non veniva l'ora di firmare se ne ha presi facciamo un paragone proprio della spesa dopo la pubblicità che sono gli artisti lui è scadenza Osimen quindi può essere anche tra virgolette un giochino che si fa fare a contratto d'accordo con De Laurentiis ma lui ha già detto che ha già deciso qua è diverso tra due anni e in più lui ha già deciso dove andare ha già detto che ha deciso dove va il prossimo stagione però un conto a andar via parametro zero un conto a andar via che voglio andar via e devono pagare certo ho fatto un favore a Napoli non è questo il caso sarebbe comunque anche una scelta dolorosa e da questo punto di vista appoggio Beccalossi credo che sia un puttuno l'autaro no no che sia attaccato all'Inter questo ci credo rispetto a un Osimen che non vede l'ora di andarsene da Napoli sono due situazioni diverse però certo che Osimen ha fatto un favore a Napoli che ha evitato insomma di perdere come fece Bremer col Toro la stessa cosa Bremer era in scadenza rinnovò col Toro ma si capiva che era un rinnovo pro forma semplicemente per far sì che il Toro non lo perdesse a parametro zero infatti è dato via peso d'oro era evidente che nel caso del rinnovo di Osimen nel momento in cui tu metti una clausola e lui ieri dichiara io ho già scelto il prossimo step della mia carriera è palese che lui non voglia rimanere a Napoli e a Napoli non ci resta quindi Osimen a fine anno va via ben ritrovati io ho un carissimo amico che ci segue sempre Massimo mi ha scritto che 10 più 39 più 41 fa 90 in effetti grazie la paura fa 90 a quest'ora per noi abbiamo deciso in pausa pubblicitaria che quel 10% che manca lo diamo a campionato annullato per troppi errori arbitrali così almeno la risolviamo così non li diamo a dire il vero fa 89 caro Massimo perché lui fa 39 quindi non è 40 40 e 10 che fanno 4 4 8 e 9 41 no perché 10 più 39 più 41 no aspetta aspetta era 10 più 39 più 41 che fa 90 39 41 ah beh sono 41 sì certo ho fatto 41 sì comunque l'hai ciccata è ciccata va bene va bene hai fatto i tuoi calcoli ma beh in ogni caso la Juve è favorita Marcello possiamo girare intorno quanto vuoi la Juve è favorita tu quel 10% lì adesso dividilo tra Juve e Inter lo divido e facciamo 5 5 fai i tuoi calcoli che io li sbaglio cioè 39 più 5 41 più 5 così resti comunque davanti sei favorito 44 e 46 quindi 46 scusa ma come danno i numeri loro non li dà nessuno no no ce n'è uno qui che li dà meglio di tutti ma chi è chi è tra macere eh lasciamo non c'è no pensavo fosse perché lui lui codesto ragazzo grazie per il ragazzo che faccio con lui l'ha sempre detto che la Juve anche quando non aveva quei due punti dettati dalla partita di vantaggio ha sempre detto guardate che negli undici poi lo hanno insultato perché è una squadra undici sono pochi non puoi contare è la paura di vivere l'incubo del sorpasso come hanno già avuto Gigi io lo dico da ancora il campionato non era iniziato io sono convinto dall'inizio dell'anno no questo è vero che non avere non avere le coppe sia un vantaggio ma certo ma questo l'abbiamo sempre riconosciuto da troppo in più rispetto agli altri ce lo insegna la storia del calcio e infatti su questo lavorare di settimana in settimana è arrivata a questo livello perché ha potuto crescere senza tutti i problemi che avere una coppa in più ti porta inevitabilmente però io immaginavo che l'Inter con l'organico che ha con l'organico che possiede l'Inter non si facesse nemmeno superare virtualmente con l'asterisco cioè che se ne andasse via e invece l'Inter non se ne andava però Marcello in realtà il campionato fatto dall'Inter finora è più che importante quello che è straordinario secondo me è stato quello che è riuscito a fare Allegri anche in quelle partite sporche perché con l'organico che tu raccontiamo non è lo stesso dell'Inter ha un organico superare alla Juve più forte l'Inter è più forte ma guarda il vantaggio che ha la Juve dall'inizio dell'anno è stato quello di poter lavorare sette giorni in settimana per arrivare alle partite con un lavoro diverso alle spalle e è lì che Allegri è stato bravo perché non ha perso l'Allegri ha lavorato anche sui singoli perché tu guarda soltanto McKennie un giocatore che io mi ricordo che quando è arrivato alla Juventus lui diceva ai suoi collaboratori ma gli americani che ne sanno del calcio quelli sanno di football americano ma non ne sanno del calcio quindi può giocare a calcio infatti è vero che adesso McKennie certe volte quella battuta lì siccome se la ricorda la ridice e la cambia dicendo abbiamo dimostrato che gli americani possono giocare a calcio ecco quindi il lavoro che ha fatto su McKennie cioè nel senso che McKennie che era uno che doveva andare via doveva essere venduto lui se l'è preso se l'è lavorato gli ha cambiato ruolo l'ha trasformato ad essere sempre uno dei migliori in campo eh ma immaginati questo è importante il lavoro che sta facendo immaginati questa rosa che doveva giocare anche la Conference League perché alla fine ti è stata tolta ma in teoria lì dovevi essere qualificato il tempo di lavoro il tempo vabbè teniamo al netto dovevi finire in Champions poi la penalizzazione Conference neanche la Conference però se dovevi giocare una seconda competizione il tempo per lavorare su McKennie il tempo per lavorare sul far crescere Cambiaso Miretti e tutti gli altri non ce l'avevi magari avevi qualche infortuna in più ed eri ancora più invece non avendocela e questa cosa è dall'inizio dell'anno che lo dico hai potuto lavorare sei stato bravo e fortunato nell'ottenere tutti quei risultati che sono la fine negli stessi dell'Inter perché alla fine il punto di differenza che c'era al netto e all'asterisco era il risultato di Bergamo con la tante gli altri risultati uguali però lo scontro diretto del 4 di febbraio secondo me sarà decisivo e anche parecchio anche dal punto di vista psicologico però è una Juve è una Juve diversa secondo me vabbè io non sono d'accordo cioè sono dalla parte opposta vedo nettamente favorita l'Inter per come è centrata per come è strutturata di squadra se in più vince anche lo scontro diretto non dico che il campionato sia chiuso ma ci siamo molto vicini sì ma l'Inter incontrerà a San Siro una Juve completamente diversa dalla Champions ma appunto non ho sentito è una Juve diversa no nel senso che questa Juve qua che incontrerà il 4 di febbraio sarà completamente diversa da quella che ha incontrato l'Inter il 26 di novembre completamente diversa va bene e che vuol dire che possono vincere perché l'andata ha pareggiato ne prendo atto fatto staglio e ha deciso anche lo scontro diretto io penso io ritengo che questa Juve questa Juve qui a San Siro non perde questa Juve a San Siro non perde io sono convinto che neanche quella di inizio hanno tra maciere continua a dire io l'ho saldamente seduto lì al di là delle battute spiego anche perché il modo che ha Allegri di mettere in campo la sua Juventus al di là del fatto che nell'ultima preta abbiamo visto un calcio anche molto più positivo è si sposa alla perfezione per mettere in difficoltà come gioca l'Inter cioè è la squadra peggiore che l'Inter possa affrontare la Juventus per come gioca la Juve è per questo che io ti dico a San Siro la Juve non perde non la perde vedi che pian piano sta salendo sul mio carro ci sto mettendo un po' ma di settimana in settimana un piccolo passettino di una volta arriverà ad esultare 4 luglio 4 febbraio 4 febbraio esulta più tu tu sei partito da un altro presupposto dicendo che comunque la rosa della Juve era molto forte io ti ho sempre detto che la rosa della Juve è inferiore a quella dell'Inter è inferiore io già metto a paragone i due reparti di centrocampo ma quella dell'Inter è nettamente superiore a quella della Juve non c'è paragone non c'è paragone se ti ricordi tutta la rosa dell'Inter se ti ricordi io sul centrocampo ti ho dato ragione tutta 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 perché ci sono comunque dei giocatori di valore la Juve c'è Bremer c'è Danilo c'è Rabiot c'è Chiesa c'è Blauvi c'è ci sono dei giocatori però tu li conti sulla punta del ridice tu dici quanti sono i giocatori forti secondo me ce ne sono un paio di giocatori della Juve che potrebbero giocare nell'Inter quei dell'Inter sono quasi tutti forti un paio ragazzi però avevano fatto il giochino io mi ricordo non so con chi fossi qui perché questo non me lo ricordo chi Inter e Juve chi prenderesti dell'altra squadra e alla fine gli interisti avevano preso 6 o 7 giocatori mettiamo l'11 titolare uno accanto all'altro e votiamo avevano preso Rabiot avevano preso cioè 5 o 6 giocatori li avevano presi che potevano giocare tanto quanto non milioni ma io ti ho detto Giovanna 5 o 6 giocatori anche 7 buoni però non più di 2 o 3 giocherebbero nell'Inter Marcello l'Inter ne ha come minimo 22 su 25 20 20 tra macere se ne va 1000 tra macere se ne va Beccalossi dice ma tu in questa diattiva come chi oh cosa sto esagerando scusami vogliamo anche farla sulla carta l'Inter noi siamo più forti però nel caso di certo non c'è niente l'ha dimostrato l'anno per Milan ma questo è sicuro poi dobbiamo capire anche tutti il Milan quell'anno lì me lo ricordo eravano tutti Napoli Juve Inter sulla carta erano considerate le più forti e poi ha vinto il Milan quindi massima attenzione io credo che l'Inter sia la squadra più forte però te lo devi conquistare in campo e bisogna stare attenti perché la Juve non c'è questa voragine la Juve più la vedevo lontana meglio stavo ma infatti l'intervista finale a Gliad a me è parso un'Inter diversa io credo ma voi avete il Giolli avete il Giolli becca attento che c'è il Giolli bisogna capire anticipo Marcello nello scontro diretto la terza squadra in campo cosa deciderà di fare a Gliad